E allora buongiorno, eccoci qui con il video sul mostro di Firenze, l'opera diciamo magna, l'opera omnia che vi voglio rendicontare. Condividete il video con le persone che reputate interessate o passibili di interesse a questo argomento. Lasciate un like se il video vi piace, se è di vostro gradimento. Guardatevi quello fatto venerdì a titolo di introduzione e di consigli per l'uso. Poi come annunciato proprio lì, in sezione commenti vi lascio la mia mail, vi lascio la bibliografia, la sitografia, la videografia e i riferimenti. E prima di cominciare, mi raccomando, nei commenti non scrivete stupidaggini e non abbiate neanche furia di commentare. Ascoltate, introiettate, confrontate magari anche con le vostre idee, con quello con cui siete arrivati, diciamo, a questa giornata, a quest'opera. E poi una bella sezione di battito aperta nella quale vorrò sentire la vostra su quello che avrò da dirvi. Staremo assieme per qualche oretta, quindi mi sono anche preparato con l'acqua e tutto. Iniziamo subito. Io leggo, eh. Leggo, sarà una lettura, una lecture. Introduzione. Allora, qualche tempo fa mi è capitato di venire taggato sotto un sondaggio di Twitter che chiedeva agli utenti quale fosse la pista che più li convinceva a proposito dei delitti del mostro di Firenze. Le opzioni erano i compagni di merende, la pista sarda, quella esoterica e quella di Zodiac. Ne vedremo anche altri. Posso dire, introducendo questo lavoro, che non reputo pienamente convincente alcuna di queste piste, pur ritenendo presenti in tutte dei pezzi di interesse. Molti di voi conoscono la mia passione per il calcio, il mio essere originario della provincia di Venezia, nonché il tifoso della Fiorentina. Ed è questo, assieme al mio interesse per i misteri d'Italia e i miei studi in storia contemporanea, che mi ha consentito di approfondire la storia del mostro attraverso una lettura singolare. Anche perché nell'intera vicenda è forse mancato qualcuno che mettesse assieme i tasselli del puzzle o che riuscisse, disponendoli su di un tavolo, ad allontanarsi momentaneamente dalla loro intricata stesura per cogliere l'intero mosaico. Credo, infatti, che nella storia del mostro di Firenze ci si concentri poco sullo spazio storico e sociale nel quale gli stessi delitti sono inseriti, le caratteristiche peculiari della Firenze, della Toscana e più in generale dell'Italia degli anni 70 e 80. La mia ricerca nasce dal collegare il più inquietante mistero che ha scosso la provincia fiorentina e quello che ha più segnato il litorale veneto e friulano, ovvero il caso del mostro di Firenze e quello di una bomber. Con ciò intendo dirvi che i due autori sono forse la stessa persona? Assolutamente no, anzi, a dire il vero, sono portato a pensare che i responsabili non siano solamente due in entrambe le vicende, ma è proprio qui che inizia il nostro viaggio. Nel lavorare a questo caso ho maturato l'intima convinzione che l'opera di profiling importata dalla cultura anglosassone ed impiegata per tentare di risolvere i più spinosi casi di cronaca consenta un affascinante excursus su presunte caratteristiche del reo, ma in ossequio alla cultura di provenienza rischi di concentrarsi troppo sulla sfera personale ed individualistica, perdendo di vista il contesto sociale nel quale avvengono alcuni casi, comportamento oltretutto lineare con la sempre più frequente patologizzazione dell'individuo. Cerco quindi di tralasciare sia affascinazioni individualistiche sia dietrologiche di pericolosità addirittura maggiore. Una profonda necessità quindi di ancorare la nostra analisi su di un terreno di solida realtà. Per comprendere gli abissi di questa vicenda è necessario calarci nel clima dell'Italia del tempo e l'Italia del tempo è quella della guerra fredda ed è l'Italia della strategia della tensione, paese industrializzato nel quale essa ebbe la sua manifestazione più virulenta. Basti pensare che dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1987 ci sono stati in Italia 14.591 atti di violenza politicamente motivati con 491 morti e 1.181 feriti, dati degni di una guerra senza alcun parallelo con qualsiasi altro paese europeo. I dati diventano ancora più interessanti semplificati a nord-est, limitandoci agli attentati principali di questo periodo contiamo 153 cittadini italiani uccisi da bombe piazzate in mezzo alla folla e migliaia di feriti. Delle 16 esplosioni che li hanno dilaniati, ben 12, ovvero sia il 75%, nonché quelle che hanno causato più morti e feriti, sono state progettate, preparate ed eseguite da persone che provenivano dal Veneto o dal Friuli Venezia Giulia. Con essa è un altro pesante fardello. La sensazione è che quando vi siano state indagini in merito, esse siano state inconcludenti o peggio, depistate. Tenendo quindi conto di quanto detto sopra sul profiling, e qui veniamo al nocciuolo, non sono convinto che quando si parli del mostro si stia parlando di un mostro propriamente detto. Il mostro non è un mostro, ma viene definito tale perché tocca le parti intime di una donna, perché le deturpa e le asporta. Così probabilmente non sarebbe stato definito se, anche in presenza di una mole omicidiaria più importante, si fosse limitato ad uccidere senza escindere. In realtà, nelle azioni del mostro, non sono riscontrabili le maniacalità di un Edgain, di un Cicattilo o di altri personaggi del genere. Nelle scene dei delitti, non vi è traccia di liquido seminale o di atti sessuali, non vi è traccia alcuna di disordine o raptus. Per questo, la ricerca di un Last Murder appare anche a me sbagliata fin dal principio. Il mostro non è un maniaco sessuale, e se si confronta la sua storia con quella di decine di altri Last Murder, la si scoprirà profondamente diversa. Tanto per citarne alcuni, possiamo cominciare dai Ted Bundy, i Gacy o il killer di Golden State, gente che uccide moltissime vittime in un periodo anche ristretto, che agiva per impulso, rischiando di essere pure scoperta. Un agire disorganizzato, con tracce biologiche lasciate sui cadaveri, in auto e nell'abitazione. Gente che uccideva, come capitava, senza armi feticcio, prendendosi rischi altissimi e avendo problemi con l'occultamento dei corpi, seppellendoli in giardino o in cantina. Il famoso Dahmer, per esempio, 19 morte in 13 anni di diversi stati, non aveva armi feticcio, agiva su impulsi rifrenabili a volto scoperto, lasciava tracce biologiche e anche diverse vittime scampate, con l'ultima che gli sarà fatale. Gary Ridgeway, tra Seattle e Portland, che colpisce prostitute con armi e metodi vari, arrivando a fare anche 3 o 4 azioni al giorno, con grande presenza di tracce biologiche, a cui scapparono delle vittime, che fu il primo caso profilato. A proposito di profilazione, la sua fu sbagliata, con un'altra persona arrestata al posto del vero colpevole e con le indagini che finirono a parlare di una setta, in un caso che sembra comune al nostro, e il vero poi colpevole arrestato nel 2001 grazie al DNA. O Cicatilo, emblematico anche lui, per il fatto che quando Rostov divenne un posto non più sicuro per compiere i suoi delitti, si è mossa addirittura per tutta la Russia in aereo, firmando 60 delitti in 12 anni. Cannibale, tentava violenza e manoriuscendoci, compiendo atti sessuali sul corpo, personaggi spesso incastrati dal DNA, o per errori e tracce lasciate, e questi sì, personaggi ai quali possiamo aggiungere i nostri bilanci stevanin, arrestati tra l'altro senza l'iter di problematiche ed impedimenti tipici del caso mostro, come casi diciamo. Personaggi disorganizzati, privi di modus operandi programmato. Il mostro invece nei suoi delitti, dimostra di avere un format ripetitivo, che arriverà a comprendere scissioni, azioni codificate e ripetute, armi feticcio, che utilizza con continuità, che dagli altri con continuità non vengono usate, perché i delitti ci tengono a farli e non a firmarli. La frequenza dei delitti dei serial killer precedenti è inoltre impressionante. Il mostro invece ha una frequenza bassa, solo 7 episodi omicidiari, e il perché non ne conteggi 8 ve lo spiegherò successivamente. Le tracce biologiche nell'azione della Smarder è frequente, abbondante e spesso compromissoria, risultando totalmente assente invece per quel che riguarda il mostro. Strabiliante è anche la precisione dell'omicida fiorentino, che pur utilizzando un'arma valida più nel tiro a segno che nel combattimento, diventa strabiliante se si paragona a tale mortale cadenza con le vittime sfuggite ai suoi presunti colleghi, capaci di utilizzare anche calibri più pesanti. Il mostro invece è molto più abile. Altro dato importante è con il luogo, con il mostro che decide di colpire nella sua duplice serie omicida esclusivamente in provincia di Firenze, al contrario degli altri citati, che si spostano addirittura di Stato e Nazione. Impossibile non notare la differenza nell'uso di precauzioni, sia relative alle scelte dei delitti che ai mezzi impiegati, che risulteranno salvifici per il mostro e fatali per gli altri. È evidente che un parallelismo è molto difficile ed è suggeribile che il mostro non sia affatto un last murder come i precedenti. La sua, al contrario, è un'azione tremendamente razionale, da ragioniere del crimine e dell'omicidio, anche se consideriamo l'immane difficoltà per lui di colpire nel Fiorentino tra l'inizio degli anni Ottanta e la metà degli stessi in pieno allarme sociale e con la serie di controlli previsti e messi in campo dalle forze dell'ordine per intercettarlo. Nonostante ciò, in egli è sempre rimasta presente la volontà di colpire solo ed esclusivamente a Firenze, quando per un serial killer il cui agire fosse invece dettato da necessità fisiologiche, come i precedenti, sarebbe stato più semplice uscire di provincia o addirittura cambiarla. Ricordiamo che ai tempi la provincia di Prato non esisteva essendo parte di quella fiorentina e poco regge che l'azione, esclusivamente fiorentina, sia dettata dalla conoscenza dei luoghi, poiché raramente la confidenza con un territorio o la comodità dell'azione si esprimono attraverso i rigidi e freddi confini amministrativi di una provincia, sia nel caso di una professione, sia per quel che riguarda il proprio tempo libero. Credo che ognuno di voi abbia maggiore confidenza con una città o luoghi frequentati per studio o nelle proprie relazioni, locati al di fuori della propria provincia di residenza, piuttosto che con gli scorci rurali della propria. Così come a me capita di avere maggiore confidenza con luoghi in provincia di Udine, piuttosto che con dei paesini sperduti dall'entroterra veneziano, pur condividendone la provincia. La possibilità e l'opportunità di colpire fuori provincia ci sono sempre state, ma è chiaramente mancata la volontà di farlo da parte del mostro. Occupiamoci ora delle affinità tra il compagno mostro e l'altra nostra fonte di curiosità investigativa, vale a dire il famigerato bombarolo del nord-est. Intanto la presenza in entrambe le aree di importanti basi militari, camp darby nell'areale toscano, nonché avviano le basi venete per una bomber. Collegandoci alla strategia della tensione, entrambe le storie fanno da contorno o coda vicende di ben più grande portata, dalle bombe sui treni del caso toscano alla strage di Bologna, affinendo con le stragi e gli attentati mafiosi proseguiti ben oltre l'inizio degli anni Ottanta, assieme alle azioni della banda di Uno Bianca. Vi è una regione come il Triveneto, definibile come laboratorio della controrivoluzione preventiva in un territorio, quello italiano, che come avremo modo di vedere, è stata a sua volta culla delle tattiche della strategia della tensione. Vi è collegata a queste presenze la reperibilità di esplosivi e armi garantite da un tessuto di nascondigli sparsi sul territorio, famosa arma del mostro, i famosi Nasco, che dal secondo dopoguerra ai decenni successivi ha rappresentato una riserva anche clandestina di armamenti da guerra ed esplosivi capaci di sfuggire a controlli e rendicontazioni, dai depositi toscani e della Calvana ai numerosissimi Nasco friulani, su tutto il caso del deposito di Aurisina. Vi è la forte sensazione in entrambe le storie del susseguirsi di vie improduttive e concentrazioni su personaggi improbabili rispetto alle accuse mosse, il che non significa gioco-forza siano innocenti, ma le cui responsabilità, piena e totale rispetto alle vicende, offrono qualche interrogativo, dai sardi ai compagni di merende del mostro, azzornita per una bomber. Al contempo, entrambi gli autori delle ferate serie sembrano non aver mai commesso un errore capace di far svoltare in maniera definitiva le indagini e sembrano avere la capacità, anzi, di ragionare con la mente di chi da loro la caccia, anticipando e depistando il lavoro degli inquirenti. Entrambi hanno periodi di cooling off, ossia di sospensione delle pratiche. Il mostro dal 1974 al 1981, una bomber dal 96 al 2000, dal 98 al 2000. Entrambi sono paragonati ad illustri predecessori, anche con iperboli, dal parallelo Zodiac mostro di Firenze al paragone tra i due una bomber, quello americano e quello italiano, con intersecazioni tra le vicende ancora più ardite, che poi vedremo. In entrambi i casi, inoltre, alcuni tra gli indagati principali entrano nelle indagini tramite la segnalazione di ex colleghi vicini di casa. L'unica sicurezza è che in entrambe le storie la giustizia non è stata pienamente soddisfacente, per il mostro di Firenze non sussistono colpevoli accertati per tutti i delitti, nonostante vari processi susseguiti nel corso degli anni, mentre per una bomber addirittura non si è ancora arrivati ad un processo vero e proprio. Autori perfetti di delitti perfetti, o forse non essere state perfette, sono le indagini intercorse negli anni. Capitolo 2 La guerra fredda e la strategia della tensione, per l'appunto. L'Italia del dopoguerra è un paese caratterizzato dalla massima compressione salariale e da un bassissimo costo del lavoro. Anche da qui si spiega il successo del PCI come il più grande partito comunista occidentale, con il PSI del suo alleato nelle elezioni del 1948 e con deboli forze di centro quali unico argine, assieme alla DC alla tenuta democratica di un paese che sarà, vi è più considerato dai quartieri generali alleati, come il ventremolle dell'Europa atlantica. L'Italia uscita dal secondo conflitto mondiale è una nazione che proprio in questo contesto vede fiorire quel mix che diverrà centrale nella nostra vicenda, con una porzione, quella a cavallo tra Veneto, Friuli e Slovenia, particolarmente calda durante il finire bellico, con la guerra titina che ad un certo punto del suo svolgimento viene percepita come un fattore di rischio per lo smembramento dei territori giuliani. Tensione che vedrà il modello anticomunista espandersi a livello ideologico con la saldatura del fronte bianco e moderato partigiano con sempre più elementi provenienti dal mondo della destra nazionale. E anche sul piano operativo vedrà l'incorporamento e lo sviluppo di realtà animate da una fervente volontà di contrasto alla minaccia rossa, se essa militare o come gli sviluppi imporranno nel dopoguerra ideologica e politica. Strategia della tensione che per il nostro paese la cui nascita io faccio risalire specialmente a tre fattori. l'evoluzione proprio dal settore nord-est del paese della guerra da lotta antifascista a lotta anche anticomunista la promozione del piano demagnetize sviluppato a partire dagli anni 50 nella persistenza di Gladio gli esiti esemplari ed operativi oltretutto del convegno all'hotel Parco dei Principi curato dall'Istituto Pollio nel 1965. Per il primo fattore è dopo segnalare l'attività dell'ufficio zone di confine e i conflitti con le Brigate Titine con la Brigata Osoppo che verrà via via smembrata e specializzata dai servizi segreti con innesti di elementi di sicura fede anticomunista molti dei quali ancora legati al reducismo. Sarà da questo nucleo primigenio e dalla necessità di difendere il confine orientale anche negli anni successivi che avrà luogo l'operazione Stay Behind nome in codice Gladio per prevedere una struttura di pronta risposta schierata sulla base dei nuclei territoriali che sapesse ritardare ed insediare una possibile avanzata delle truppe del blocco orientale in caso di invasione in Italia. Queste strutture oltre all'appoggio di reclutatori italiani ed atlantici potevano godere della presenza di depositi chiamati NASCO dall'abbreviazione di nascondigli dislocati in special modo nella porzione nord-orientale del paese ma come vedremo poi presenti assieme a nuclei di controguerriglia di svariata entità un po' in tutto il territorio nazionale. Ogni sezione e unità di Gladio era articolata in sei specialità una di esse era quella del sabotaggio e prevedeva che ogni gladiatore dovesse saper usare indifferentemente diversi tipi di esplosivi comprendendo la capacità di fabbricarne in loco con materiali presenti sul territorio. I volontari dovevano per esempio saper ottenere il C4 essere esperti nelle tattiche di infiltrazione e desfiltrazione per raggiungere luoghi ed allontanarvisi senza lasciare traccia saper costruire inneschi a trappola e micro inneschi i primi per trappolare oggetti di grande dimensione mezzi di trasporto ai passaggi obbligati i secondi per camuffare il materiale esplosivo in strutture minuscole capaci di atterrare l'attenzione dell'emico senza insospettirlo e costruire le famigerate trappole esplosive si tratta di una tecnica per massimizzare le perdite nelle file avversarie e minarne il morale utilizzate anche dai tedeschi durante il secondo conflitto mondiale e con il progredire della tecnologia dalle truppe inglesi in Malesia e quelle americane in Corea e Vietnam un clima che consenta cioè di creare tra le file nemiche una sensazione di perenne paure e allarme che troveremo impiegato anche dall'Ira e dai terroristi nordirlandesi se per gli inneschi di prima tipologia si parla necessariamente di grandi dimensioni per i micro inneschi di bombe necessariamente minuscole l'involucro può essere una semplice borraccia una bambola una pentola borse e valigette cibo in scatola pacchetti di sigarette pile baschi giocattoli e penne questo tipo di ordigni in altri scenari aveva provocato molti morti e feriti gravi sia tra i civili delle zone controllate dai vietcong anche tra i bambini sia tra le forze armate britanniche presenti nell'Alster a questo si aggiunga il fatto che i gladiatori arrivati ad adestrarsi in Sardegna sono una piccola parte sono solo una piccola parte della falange di operatori schierati nell'operazione stay behind poiché ogni persona addestrata a capo Marrargiu diveniva a sua volta capo di una sottounità sconosciuta agli altri perché da lui stesso creata in pieno secco ad un'altra caratteristica di questi gruppi quella della compartimentazione sul territorio italiano vi è quindi la presenza di una forza massiccia e addestrata di operatori preparati anche a formare altri guerriglieri e ad essere leader di nuove unità spesso totalmente sconosciute ricordiamo inoltre che accanto ad ogni operatore doveva esserci una forza numericamente almeno 5 volte superiore 6 è il numero di persone minimo necessario alla costituzione di unità in base allo schema ISPEG informazione sabotaggio propaganda e sfiltrazione guerriglia valido per tutte le strutture stay behind con questo non intendiamo dire che la presenza di Gladio fu alla base della strategia dell'attenzione in Italia effettuando un riduzionismo verticista tanto comodo quanto presente altrove quando si parla per esempio della loggia P2 vi è anzi un rischio ancora maggiore e una possibilità ancora più inquietante ovvero che diversi nuclei di secondaria formazione e di ancora più difficile rendicontazione di sfuggente presenza capace di sfuggire allo stesso controllo dei vertici della stay behind istituzionale possono essersi formati in questo contesto di fervente contrasto politico adottandone l'organizzazione clandestina e diverse competenze tecniche se parliamo dei depositi nasco inoltre scopriamo che alcuni come testimoniato dal giudice casson riguardo il deposito 203 di aurisina non avevano alcun controllo o alcuna rendicontazione di carico e scarico dei materiali ma ciò non deve stupire proprio la segretezza delle organizzazioni beneficiarie sia nei loro scopi che nei loro stessi appartenenti sarebbe stato in palese contrasto con un'opera di rendicontazione continua dei materiali previsti per le azioni deposito quello carsico di armi ed esplosivi tra i quali si trovano centinaia di metri di miccia decine di detonatori molti accenditori a pressione alcune trappole matite esplosive ordigni già predisposti deposito dal quale probabilmente ha attinto lo stesso Vincenzo vinciguerra per l'attentato di Peteano lo scenario internazionale in cui era inserito il nostro paese era oltretutto di grave delicatezza specialmente nei primi due decenni post 1945 la possibilità da parte dell'URSS di dotarsi di armamento nucleare impedì fin quasi da subito sullo scacchiere del confronto tra Unione Sovietica e Stati Uniti la possibilità di una guerra calda da giocarsi con le armi nello scenario europeo sul terreno poiché un simile scenario avrebbe provocato la mutual assured destruction ovvero la distruzione dei rispettivi paesi e aree di influenza la guerra fredda virò quindi in particolare dagli anni 50 verso un conflitto labile estrisciante che poteva talvolta prevedere il diretto confronto bellico in aree marginali dello scacchiere internazionale in particolare citiamo i casi della guerra di Corea della guerra di Vietnam o delle sempre più frequenti guerre di liberazione nazionale nei paesi soggetti al dominio coloniale ma quasi mai questo tipo di confronti caldi vedeva la diretta partecipazione delle due superpotenze o il contendere militare in territori centrali quali quello europeo la contesa non sfociava mai in un conflitto aperto tra le due potenze rimanendo un confronto a bassa intensità giocando sul terreno dell'anticipo politico dell'influenza sulle masse e sulla proiezione delle rispettive sfere di influenza il conflitto su di questo piano si rivelerà particolarmente impegnativo per il fronte occidentale poiché il mondo basato sulla libertà degli scambi commerciali e sulla verifica elettorale non poteva al contrario della controparte sovietica rispondere ai tumulti di piazza e alle velleità riformatrici con l'invio di carri armati per soffocare rivolte doveva bensì strutturare la propria risposta o contro insorgenza nonché la propria capacità di influenza attraverso strumenti più sottili rimanendo sul piano e citando le guerre di liberazione nel terzo mondo un peso non indifferente nella strutturazione delle cellule agenti nel contesto di una guerra non ortodossa basata su azioni di influenza coperte arriva dalla guerra di liberazione algerina e dall'azione nella stessa dell'organizzazione dell'armé secrete vale a dire la famigerata OAS durante il conflitto infatti si staccò un gruppo di parachute shock molto vicino al gruppo della cité catholique uno dei think tank dai quali erano partite le teorie della guerra rivoluzionaria questo gruppo guidato dai vesti meglio meglio conosciuto come i velgerin serac si organizzò sotto le vesti di un'agenzia stampa lag interpress ed emigrò a lisbona essa divenne ben presto il punto di riferimento più importante dell'internazionale nera ed anticomunista svolgendo lavoro di reclutamento di mercenari per le colonie portoghesi spionaggio nei confronti della sinistra europea e prestando sia anche allo svolgimento di lavori sporchi nella seconda metà degli anni sessanta del resto l'Europa per gli USA stava divenendo un teatro caotico sia per l'appaventata uscita della Francia dalla Nato nonché per il temibile allargamento dell'URSS nel Mediterraneo verso i paesi arabi la sempre maggior sensibilità della Germania occidentale al dialogo verso i fratelli orientali la cosiddetta Ospolitik nonché il movimento filo vietnamita che andava espandendosi tra gli studenti in ciò l'Italia ricopriva un ruolo essenziale non rinunciabile in un contesto nel quale nel filo sovietismo sempre più incipiente nel mondo arabo anche la politica intraprendente dell'Eni rischiava di rappresentare un guanto di sfida per gli equilibri atlantici sarà in particolare durante il governo Nixon che la cosiddetta strategia dell'attenzione farà sentire tutto il suo peso nel Mediterraneo con la situazione italiana e quella greca fortemente osservate e con l'ambiente militare preoccupato dalla continua crescita del PC e in questo contesto fortemente segnato oltremodo dalle sempre più innovative ed efficaci tecniche di guerriglia utilizzate nel terzo mondo che tra l'ambiente militare monta non solo la preoccupazione ma anche l'esigenza di contrastare la rembante ricorsa filo sovietica in primis in Italia del resto prendeva già vita nei primi anni 50 il piano degmannetize un piano di permanente offensiva anticomunista che prevedeva il contrasto all'espansione dell'influenza dell'unione sovietica in particolare nei paesi dell'Europa meridionale ad occuparsi della sua redazione fu il Joint Chief of Staff un ufficio della CIA per le operazioni clandestine che operava in piena indipendenza dagli altri dipartimenti l'ambasciata statunitense a Roma era l'organo deputato a mantenere i contatti con i servizi segreti italiani e nel 1951 fu sottoposto per la parte italiana al generale De Lorenzo dal 1955 a capo del SIFAR in termini di accordo internazionale segreto questo piano tra le altre cose non prevedeva solo l'infiltrazione nelle formazioni di sinistra per spostarle su posizioni di maggiore estremismo ma anche la messa in pratica di azioni per screditarle agli occhi del loro elettorato attraverso operazioni false flag un esempio è il caso della fissione dei cosiddetti manifesti cinesi un format nel quale esigenze di guerra psicologica si mescano all'azione di settori dell'estremismo nero infiltrazione nei gruppi avversi che è un espediente che vedremo poi all'opera anche negli Stati Uniti in Francia e altrove nelle manifestazioni del 67 e del 68 dando all'Italia quel crisma di laboratorio delle tattiche della strategia della tensione che ne caratterizzeranno la storia lungo decenni l'operazione durata per tutta la seconda metà degli anni 60 consisteva nell'affissione di manifesti che criticavano la linea filo sovietica revisionista del partito comunista italiano contraposta a quella filo cinese i manifesti erano attribuiti a piccole formazioni come il partito marxista leninista per aprire l'idea di una spaccatura a sinistra l'operazione fu in realtà ideata dall'ufficio affari riservati e materialmente eseguita da militanti di avanguardia nazionale e altre formazioni simili le principali affissioni avvennero a Roma Milano e Mestre ad opera di Martino Siciliano Delfo Zorzi e Paolo Molin nonché a Venezia e Padova con un duplice scopo fomentare divisione all'interno della sinistra e impaurire l'opinione pubblica di fronte all'esistenza di tali gruppi estremistici l'operazione inseribile nel susseguirsi delle operazioni De Magnetize e poi Caos piano elaborato nel 67 dal direttore del controspionaggio James Angleton ripreso nell'opuscolo Notration Politique pubblicato proprio dalla Ginter Press parlando di Gladio possiamo dire che ufficialmente il presidente della commissione stragi Libero Gualtieri che ritroveremo nel 1990 riceve da Giulio Andreotti un dossier sull'operazione Stay Behind di cui poi aveva parlato la Camera il 3 agosto il 23 ottobre la struttura viene resa di pubblico dominio composta da 622 civili essa avrebbe potuto disporre di armi ed esplosivi interrati in diverse zone del nord Italia ma anche del sud del resto oltre ai 139 nasco Gladio poteva disporre di armamenti nascosti in almeno 50 caserme nonché di una base segreta in Sardegna molti parlando di strategia della tensione penseranno solo ed esclusivamente a Gladio ma in questa analisi ciò che trovo particolarmente fertile è il parallelo e il successivo fiorire di organizzazioni spesso clandestine ma mantenenti una struttura gerarchica sul territorio strutture che dagli anni 50 alla metà dei 70 quando vivranno un particolare riflusso avranno un ruolo nodale nella vita italiana perché mentre Gladio ha comunque i crismi di un'operazione ufficiale e in un certo quel modo rintracciabile meno facilmente ricostruibili sono le zone d'ombra che vanno creandosi proprio per queste altre entità quali per esempio quelle emerse sul finire del 1974 nel procedimento sulla rosa dei venti e il SID parallelo o i nuclei di difesa dello Stato strutture che vedono un intreccio frequente tra cellule della destra avversiva ex militari ambienti deviati dei servizi e gli altri settori parlando inoltre del convegno dell'istituto Polio all'hotel Parco dei Principi bisogna agganciarci al contestuale clima di preoccupazione che animava già gli stati maggiori italiani in questo periodo il nucleo di guerra non ortodossa del SIFAR infatti già nel 1964 riteneva un atto di minaccia rivoluzionare a cui rispondere anche già solo una vittoria elettorale del PC e stava preparandosi ad una pronta risposta sul territorio leggiamo che il concetto cui si deve informare la realizzazione di questo organismo è il seguente tener conto delle procedure che adotta l'avversario adeguarsi a esse i rivoluzionari sin dall'inizio dell'insurrezione si installano in determinate zone allo scopo di sottrarre al potere centrale l'organizzazione di difesa interna deve quindi consentire la costituzione immediata di un comando politico-militare nazionale e di comandi politico-militari periferici la decentrazione automatica dei poteri civili e militari affinché la lotta possa essere continuata senza interruzione anche nel caso di isolamento di un'intera regione queste condizioni essenziali per l'efficacia della difesa interna sono realizzate ai maggiori e minori livelli mediante la costituzione ed il funzionamento ancora prima che il paese sia investito dalla guerra non ortodossa di stati maggiori misto-politico-militari parallelamente ai predetti stati maggiori si dovrà prevedere la costituzione di speciali unità di protezione e si dovranno prevedere unità per impiego prevalentemente statico unità per impiego prevalentemente mobile unità per impiego clandestino queste ultime costituite a somiglianza di gruppi di azione rivoluzionaria con compiti di ricerca e offese l'attività delle unità clandestine deve essere coordinata e diretta dalle autorità ufficiali così come quella delle altre unità con la sola differenza che la loro composizione e la loro organizzazione devono rimanere occulte e solamente i comandanti devono essere conosciuti ai corrispondenti livelli della gerarchia amministrativa e militare in questo clima prende forza un mix che potremmo definire come la summa di tutte queste indicazioni ovvero a. la preoccupazione degli ambienti militari per il progressivo successo dei movimenti comunisti b. la presenza in Italia di strutture e mezzi che non più possibilitate di un confronto militare diretto possono avere interesse a bloccare l'offensiva comunista in altri modi c. il crescente successo delle metodologie di guerriglia nei vari scenari bellici internazionali un evento oltretutto quello del pollio che per la caratterizzazione dei partecipanti è sostesso emanazione di quella congiunzione civile politico-militare di cui abbiamo in precedenza parlato evento che ha luogo dal 3 al 5 maggio del 65 dall'istituto di studi militari Alberto Pollio organizzato per iniziativa di tre giornalisti appartenenti agli ambienti della destra ed ebbe come tema principale la guerra rivoluzionaria ovvero proprio quella dottrina che circolava in quegli anni nell'ambiente militare e mirata a dare maggior vigore alla lotta contro la possibile avanzata del comunismo in Italia in un contesto nel quale il PC sembrava riscuotere sempre più consensi secondo i relatori del convegno occorreva che una parte della destra si facesse carico di una reazione alla crescita del pericolo comunista affiancandosi ad apparati dello Stato particolarmente sensibili il presupposto era che un terzo conflitto mondiale fosse già in atto ma non nelle forme tradizionali seguendo bensì dottrine tecniche procedimenti formule concetti totalmente inediti elaborati adottati e sperimentati dai comunisti in termini globali e su scala planetaria ai cui principi si è ispirata comunque e dovunque la condotta non solo degli stati comunisti ma anche dei partiti comunisti che operano nel mondo libero e per i quali la competizione politica è in ultima analisi un fatto bellico avente come obiettivo la totale sconfitta dell'avversario al convegno parteciparono personaggi legati al mondo anticomunista in particolare militari di alto grado imprenditori politici e giornalisti vi furono Pio Filippani Ronconi Pino Rauti nonché tra la piccola porzione di studenti universitari inviati per apprendere nuove teorie vediamo la partecipazione di Stefano D'Alecchiai e Carlo Maria Maggi e Mario Merlino personaggi chiave nelle riletture in tutti gli avvenimenti degli anni successivi nel contesto del pollio Gladio e nuclei di difesa dello Stato che tra poco vedremo erano speculari Gladio era una struttura dello Stato Maggiore del Sidi in ambito nato che attraverso una rete di civili doveva reclutare uomini atti ad opporsi ad un'eventuale invasione da Est i nuclei di difesa dello Stato di cui si parlò nel 1965 al convegno al Parco dei Principi erano una specie di esercito non ufficiale e parallelo che agivano all'ombra di Gladio le due strutture spesso si interseccavano e sopravvonevano tra loro depositi di armi compresi io preferisco parlare di una evoluzione delle esigenze proprio perché Gladio era una struttura pensata a scopo primariamente militare e non politico l'esigenza di adattare la lotta ad un contesto politico piuttosto che di scontro militare diretto tra superpotenze può aver facilitato l'evoluzione e la nascita anche spontanea di nuclei ancora più sfuggenti questo processo viene rilanciato anche da John Prados nella sua introduzione nel volume Nato Secret Armies di Daniele Ganser l'introduzione nella quale leggiamo We find the same group of individual or cells originally activated for the wartime function beginning to exercise their strength in peacetime political processes Sometimes these efforts involved violence even terrorism and sometimes the terrorists made us of the equipment furnished to them for their Cold War function Even worse police and security services in a number of cases those to protect the perpetrators of crime to preserve their Cold War capabilities Veniamo quindi ai nuclei di difesa dello Stato nei quali in nome della lotta -anticomunista convenivano convivevano componenti militari e partecipazione di aderenti ai gruppi della destra extra-parlamentare quali Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo ai quali sovente venivano delegate alcune attrazioni più torbide della guerra non ortodossa come avveniva anche nel Sud America e in altre parti del mondo È interessante risalire alle dichiarazioni del colonnello Amos Piazzi nel procedimento Rosa dei Venti nel quale si dice che era necessario regione per regione capillarmente provincia per provincia reclutare personale con analoghe caratteristiche compartimentato al massimo e da addestrare a nuclei di tre persone al massimo nelle rispettive mansioni e l'addestramento svolto da istruttori militari e paramilitari riguardava topografia nozioni di guerra psicologica trafilamento rudimentali conoscenze sulle armi e gli esplosivi lezioni di tiro e soprattutto tattica di guerriglia ricordiamo che in quegli anni proprio a Verona era operativo il gruppo Ludwig con simili caratteristiche di fuoco coevo ai delitti del mostro di Firenze animato da Wolfgang Abel e Marco Furlan e per la struttura veronese vi sono le dichiarazioni adesso vedremo tutta una serie di dichiarazioni a titolo di esempio del clima che si stava vivendo vi sono le dichiarazioni di Stimamiglio sulla falsa riga di quelle di Spiazzi che ci parlano di una struttura costituita nella reale veronese da una decina di gruppi di 5 o 6 elementi ciascuno che non si conoscevano tra loro questi gruppi si affrancavano a militari in occasione di addestramenti o esercitazioni e quindi partecipavano a manovre o addestramenti nei poligoni di tiro dello stesso tenore le dichiarazioni di Enzo Ferro nella sua deposizione sull'operazione Rosa dei Venti attraverso i miei confidenziali rapporti col studetto Maggiore Spiazzi ho avuto modo di conoscere che l'organizzazione Rosa dei Venti era articolata in cellule autonome che avevano sede in varie località dell'Italia settentrionale ho sentito anche dallo Spiazzi dire che si erano programmati degli attentati in città mediante scoppi di ordigni esplosivi destinati non ad uccidere persone ma a creare tensioni ed un esponente di ordine nuovo di Perugia Graziano Gubbini un'altra rendicontazione organizziamo durante la mia permanenza a Verona un incontro per dar vita a una struttura di civili di ispirazione ordinovista che in collegamento con ambienti militari avrebbe dovuto organizzarsi con basi e armi e con finalità anticomuniste allora quando comparve sulla stampa la vicenda della struttura Gladio riconobbe in quest'ultima qualcosa di simile a ciò che noi contavamo di organizzare vi fu quindi una riunione nella caserma di Montorio presieduta dallo Spiazzi e con presenti altri ufficiali e dalla quale per ordine nuovo partecipammo io tale Salvatore Ardizione ed una persona di nome Claudio di Verona della quale adesso non ricordo il cognome conosciuto dallo Spiazzi e ben inserita in quell'ambiente io rappresentavo il centro Italia Ardizione l'Italia meridionale e Claudio il nord l'operazione venne denominata operazione patria e prevedeva la costituzione di una struttura organizzata in modo analogo al fronte nazionale di liberazione con a disposizione basi ed armi in grado di fornire addestramento dando per buone queste dichiarazioni è qui interessante notare diverse cose in primis la sensazione che Gladio fosse una struttura simile a quella di cui si parla quindi non per forza sovrapponibile la seconda è la distribuzione su tutto il territorio nazionale tramite cellule ben compartimentate e la terza ma non ultima la disponibilità di armi addirittura a base per l'addestramento ok? ricalcando la struttura dell'FNL una struttura quindi piuttosto ampia che è operato a cavallo fra gli ambienti militari civili che è cresciuta al fianco delle associazioni d'arma del combattentismo attivo e che è stata influenzata dalle dottrine del tempo e che inoltre può non essere nemmeno l'unica presente sul territorio queste sono tutte cose che voi trovate nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio italicus bis che è molto importante per quello che noi stiamo facendo le più regenti indagini hanno trovato infatti il collegamento fra la Rosa dei Venti ed alcuni gravi attentati dell'Italia repubblicana secondo quanto riportato in un'ordinanza sentenza del giudice istruttore Guido Salvini nel 1995 il colonnello Amos Piazzi già imputato nel processo per la Rosa dei Venti ha voluto spiegare quale fosse effettivamente 95 anni insomma ha voluto spiegare quale fosse effettivamente a cavallo degli anni 70 il suo ruolo svelando di avere diretto la legione di Verona dei nuclei per la difesa dello Stato una sorta di seconda gladio che ha operato fra il 68 e il 73 parallelamente addirittura su un piano superiore rispetto ai servizi ufficialmente riconosciuti di questa realtà iniziatica si vuole vedere un riflesso nel procedimento con cui nel 1978 la corte di Cassazione tolse a Giovanni Tamburino la titolarità delle indagini che minacciava di violare il mistero dell'apparato in esame negli stessi mesi del 74 nei quali si svolge l'inchiesta al giudice Tamburino convolgendo ufficiali uomini dei servizi avvengono le stragi di Brescia e dell'Italicus oltre che altri attentati terroristici gravi spesso ai treni e nella tratta Firenze e Bologna anno centrale il 74 quale è l'attentato di Vaiano Silvi Marina il 74 è anche l'anno in cui il mostro inizia a colpire e vedremo poi perché secondo noi non dal 68 in un'area sensibile al terrorismo e vicino all'azione del procuratore Vigna che in quel momento era occupato contro l'estremismo nero e le sue violenze in un clima nel quale le trame degli anni precedenti iniziano a venire allo scoperto altre dichiarazioni interessanti quelle di Gaetano Orlando sapevo bene dell'esistenza di una struttura che doveva contrastare l'avanzata del partito comunista e che a tal fine poteva disporre anche di armi le armi provenienti dal Veneto erano destinate alla Valtellina nonché ad altre località dico questo con riferimento in particolare al 1969 in cui nei mesi di settembre ottobre novembre vi furono a Padova parecchie riunioni io partecipai ad alcune di queste erano presenti ufficiali italiani ed ufficiali americani della base di Vicenza nonché rappresentanze civili provenienti da diverse aree del nord in particolare la Toscana parte dei Toscani erano del MAR movimento armato rivoluzionario altra sigla anticomunista così come rivoluzionario era definita la guerra del Pollio altri teorizzata di movimenti anticomunisti al termine di queste riunioni avveniva la consegna delle armi nel senso che nel bagagliaio delle macchine si trovavano delle armi queste ci venivano date in funzione di lotta interna anticomunista la storia che una struttura di tal genere dovesse servire contro un'invasione straniera è a mio avviso una barzelletta e poi ancora successivamente ebbe alcuni incontri in Versilia in particolare a Fiumetto e Marina di Pietrasanta nel corso di queste riunioni venivano fatti strani discorsi di taglio anarchico rivoluzionario nel corso della riunione gli ufficiali presenti ad un certo punto distribuirono 4 o 5 pistole una di queste si trattava di una Smith & Wesson che fu consegnata al Bertoli che me la mostrò con piaciuto le altre pistole furono date ai versiliesi continuano le dichiarazioni altre ribadisco quanto ho già detto circa l'organizzazione parallela anticomunista la quale appartenuto certamente non era destinata a fronteggiare un'invasione esterna ma aveva una funzione interna anticomunista quando nel 1974 mi recai presso l'appartamento che avevo preso in affitto vi trovai un arsenale enorme di armi che scomparirono a seguito delle mie proteste nell'appartamento trovai anche gente proveniente dal Veneto si trattava di 6 o 7 persone che però non conoscevo circa allo spiazzi so che il fumagali nella sua ufficina aveva preparato modificandole delle armi discorso sulla modifica delle armi che torna dal resto anche la possibile arma utilizzata nel mosto di Firenze che poi vedremo vi sono anche personaggi chiave come Giancarlo Esposti sicuro conoscitore di armi materie esplodenti e mezzi di trasmissione continuando con le dichiarazioni in grado di realizzare con estrema facilità qualsiasi tipo di ordigno esplosivo sullo stesso Esposti già prima della sua morte sapevamo dei suoi rapporti con ambienti istituzionali ricordo che mi regalò una pistola una Beretta 34 calibro 9 corto che asseriva di avere a sua volta ricevuta in dono da un maggiore detta arma non venne repertata fra quelle sequestrate al momento del mio arresto a Pian de Rascino evento di Pian de Rascino che ritroveremo nelle vicende del mostro lei mi chiede se Esposti disponesse di cassette munizioni di provenienza Nato ricordo che aveva migliaia di munizioni calibro 7,62 per il suo fucile di precisione e che queste erano custodite in cassette metalliche color verde che avevamo noi a Pian de Rascino ma non è solo la componente veneta di ordine nuovo ad avvicinarsi ad apparati di sicurezza risulta in atti che anche il gruppo La Fenice era in contatto con i servizi inoltre anche la componente Umbra e Toscana di ordine nuovo era compromessa con apparati di sicurezza in tal senso interessanti le dichiarazioni di Bertazzoni del 1992 nel 1971 fui accusato di aver sparato alcuni colpi di pistola contro dei militanti di sinistra a Perugia veni denunciato senza peraltro venire arrestato in quelle circostanze venni avvicinato da un maresciallo che mi disse di appartenere al SID costui mi fece dei discorsi concernenti una possibile collaborazione tra me ed il mio gruppo dei servizi segreti disse che la situazione era grave e che solo uniti avremmo potuto combattere i comunisti questo maresciallo disse che era disponibile a metterci a disposizione delle armi e a favorirci sia in merito alla vicenda giudiziaria conseguente alla sparatoria sia in occasione del servizio di leva il maresciallo in cambio di questi favori ci chiedeva di segnalare gli studenti stranieri soprattutto quelli arabi diceva che Perugia era un crocevia del terrorismo internazionale la conferma arriva dalla deposizione di bistocchi mi risulta che il Bertazzoni era stato contattato da una persona che diceva di essere dei servizi ed è vero che mi parlò di questo contatto io ero contrario a mantenere quel tipo di rapporti lo consigliai anche a lui c'era troppa gente adulta intorno a noi per noi intendo il gruppo ordinovista di Perugia e si diceva vi fossero anche persone che si interessavano a noi collegate con un fantomatico personaggio di Arezzo che aveva tanti soldi identifico nel Gelli in particolare legato a questo personaggio era Augusto Cauchi ricordo che il Cauchi parlava di un personaggio di Arezzo molto ricco che era in grado di finanziargli certe situazioni il Cauchi ostentava disponibilità di denaro per noi ragazzi assolutamente inconsuete in quel periodo qui a risultare interessante non è tanto Gelli quanto la figura del segnalatore di studenti stranieri e la presenza di disponibilità economiche procacciate da alte sfere che si riversano a beneficio della manovalanza in uno schema che ritroveremo continuiamo intanto con le dichiarazioni sempre a titolo di esempio questa volta di Gubini del 94 faccio presente che il movimento politico Ordine Nuovo fino al suo scioglimento del 1973 era sostanzialmente organizzato per bande nel senso che c'erano gruppi locali con caratteristiche anche diverse tra loro che mantenevano reciproci contatti Ordine Nuovo era nato nel dopoguerra attorno ad alcune operazioni anticomuniste ed era già in origine legato agli ambienti militari Ordine Nuovo era un gruppo con evidenti caratteri anticomunisti e perciò era facile preda dei servizi effettivamente mi risulta che il Bistocchi venne contattato da un ufficiale e sia lui che il Bertazzoni mantenero contatti con questa persona io stesso fui avvicinato da un sedicente ufficiale che mi propose di collaborare organicamente nell'ambito di una struttura anticomunista questa persona mi disse che avremmo avuto a disposizione armi e quant'altro fosse servito faccio presente che era interesse del gruppo milanese costituire un gruppo in Toscana interessanti dal punto di vista logistico anche le dichiarazioni di Pecoriello non intendo fornire ulteriori specificazioni in ordine ai vari finanziatori della destra avversiva né in ordine a quei carichi di armi ed esplosivi ricevuti dalla Grecia nel 1968 dei quali parlo nel memoriale faccio presente comunque di aver appreso di tali carichi ed esplosivi proprio dalla persona che li ritirò in Italia mi hanno fatto riflettere inoltre altre due circostanze cioè che alcuni appartenenti di avanguardia nazionale fossero figli dei funzionari del ministero degli interni le riunioni indette ebbero luogo nel 1973 a Pisa Lucca e forse anche in altre località posso confermare che un membro dei paracadutisti sabotatori di Livorno mi consegnò nel 1973 le bombe a mano di cui ho già parlato entrarono quindi a far parte dei depositi di cui ordine nuovo disponeva e so che in Toscana c'era un responsabile proprio di tale struttura logistica erano anni così ragazzi erano le esigenze sul terreno erano queste qui è interessante notare la conferma di una presenza di serbatoi e depositi d'arma in dotazione a questi gruppi nonché addirittura la possibilità che le armi possano arrivare da paesi terzi secondo Giovanni Tamburino inoltre il piano operativo della Rosa dei Venti era occupato al basso livello da vecchi gerarchi dell'RSI giovani rapinatori delinquenti comuni picchiatori neofascisti e simili è emerso un reticolo diffuso sul territorio nazionale che saldava individui disparati per età censo cultura provenienza e interessi gli esaltati fanatici del golpismo si accompagnavano a professionisti di guerra psicologica e ai reclutatori di giovani disponibili ad ogni impresa gli esperti nell'uso delle armi del tritolo si accompagnavano i collettori di informazioni eveline perché certamente gli esaltati non mancavano né personaggi disponibili a tutto la nuova strategia del resto superava la distinzione tra militare e civili proprio in conformità con l'elaborazione dei generali dell'OS francese e con la nozione di soldato politico dei teorici del radicalismo ed è esattamente questa la direzione rivendicata dai gruppi disseminati sul territorio un fattore di attrazione nel reclutamento poteva essere una paventata finalità golpista condita da ecchi romantici e nostalgici per giovani ardenti neofascisti finalità che in realtà esisteva solo in funzione di un'eversione stabilizzante con le stesse stragi poiché per l'Italia non era programmato golpe per quel che riguarda l'organizzazione paramilitare che alcune formazioni di estrema destra si stavano dando in quel periodo basti pensare che Ordine Nuovo così come altre organizzazioni analoghe tipo Avanguardia Nazionale era diviso in due settori uno pubblico e uno segreto la struttura clandestina risulta da un documento che verrà sequestrato proprio a Salvatore Francia e che già nella premessa avverte che è necessario tralasciare gli schemi di azione di tipo legale e parlamentare proprio a partiti e movimenti inseriti nel sistema per passare a forme coerenti ed estremamente decise di azione rivoluzionaria il gruppo operativo tipo è diviso in squadre squadra 1 anzi squadra I scusate composta di 5 militanti per la raccolta di informazioni squadra I informazioni squadra C composta di 3 militanti per stabilire rapidi e sicuri collegamenti tra alcuni dirigenti del comando di zona e il capogruppo e tra questi il caposquadra squadra S composta di 4 militanti per comprati di sabotaggio e custodire materiali squadra E composta di 5 uomini armati decisi buoni tiratori squadra F composta di 3 militanti per il reperimento di finanziamenti e per segnalare persone enti industrie che volenti o nolenti potrebbero vedersi costretti a versare congrue tangenti squadra M composta da un medico e un assistente per organizzare tutta l'assistenza chirurgica e medica di primo intervento evitando così ai militanti feriti di ricorrere a cure mediche esterne non è forse una suddivisione di compiti suggestiva io preferisco definire questo fiorire di nuclei armati territoriali in ermi o attivi una gladio parallela scaricando su di essi molte delle ombre invece addossate alla struttura stay behind regolare che spesso era composta da notabili da persone in vista dalla società civile e militare mentre più sfuggenti e come abbiamo visto sensibili a reclutamento in porzioni estremistiche erano non solo i nuclei di difesa dello Stato ma anche tutte le realtà coeve e di fiancheggiamento agli stessi nonché di più difficile ricostruzione le loro attività e disponibilità perché erano nuclei privi di ogni regolarizzazione senza la presenza istituzionale e documentabile di ufficiali in servizio che potevano anche utilizzare occasionalmente basi ai campi paramilitari ma di cui non fosse possibile documentare il rapporto in ogni caso inquietante notare come gli addestamenti riguardassero ripeto il tiro con armi leggere lo studio circa il confezionamento di ordini esplosivi la simulazione di attacchi notturni su obiettivi prestabiliti ok tecniche di assalto che sicuramente portano alla mente entrambe le vicende del nostro oggetto se nel 1965 inoltre le conclusioni dell'istituto Pollio al cui convegno all'hotel Parco dei Principi vediamo presente anche Pino Rauti sembrano spingere verso la presenza di gruppi misti militari politici e civili pronti a tutto per fronteggiare la minaccia comunista sul campo con azioni di guerra rivoluzionaria già nel 1963 è invece una nota del CASM che denuncia forti preoccupazioni in merito all'adozione di forma di controguerriglia mista formata da civili e militari che per la sua stessa natura e per il numero di effettivi che richiede non può essere condotta che con forze regolari ricorrere a formazioni irregolari potrebbe essere allettante ma specie in una controguerriglia condotta in territorio nazionale l'azione di tali reparti potrebbe sfuggire al controllo e produrre inconvenienti forse irreparabili nei confronti della popolazione nota del CASM un avvertimento sinistro a cui tuttavia negli anni seguenti il piano inclinato della politica e delle tensioni di piazza sembreranno non dare ascolto è normale infatti che in nuclei di tale tipo dove l'esaltazione e la feroce determinazione politica la capacità militare e la disponibilità ad uccidere si fondevano in un mix letale potesse nascere il rischio di una deriva violenta capace di attingere anche al quotidiano dei territori ospiti in un discorso che non riguarda più la folie citata anche da Filastò quando si parla di un gruppo d'azione nel quale è difficile che due o più persone con quelle caratteristiche si trovano qui invece seguendo questo discorso basta un calcolo meramente probabilistico vedendo la gente che componeva questi gruppi e nel decidere se questi nuclei siano o meno esistiti durante le inchieste giudiziarie degli anni 90 emersero testimonianze tra tutte quella di Digilio Ferro Stimamiglio ed altri che riferirono proprio sull'esistenza tra altri magari nemmeno emersi dell'organismo ramificato in 36 legioni su tutto il territorio nazionale identificabili proprio con le strutture citate nella Rosa dei Venti nuclei che possono anche essere dormienti dei quali non è necessario formalizzare l'esistenza dei quali viene anzi da dire è consigliato non formalizzare l'esistenza proprio per garantirne libertà d'azione e difficoltà di incerti intercettazione del 1965 del resto è anche lo scioglimento da parte delle chiaie di avanguardia nazionale un espediente per evitare un procedimento per ricostituzione del partito fascista quando in realtà il gruppo dirigente rimase coeso continuando ad operare clandestinamente cercando riparo tra le fila di altre formazioni di destra lo stesso dalle chiaie non avrà timore di dichiarare nel 1982 molti anni fa abbiamo infiltrato alcuni giovani militanti nelle strutture del sistema oggi molti di loro occupano dei posti utili a penetrare i segreti del regime per questo motivo siamo riusciti fino ad oggi ad anticipare i movimenti dei nostri nemici politici sempre parlando delle connessioni tra sistema destra e strategia della tensione è impossibile non occuparsi del gruppo veneto al centro dell'attenzione per gli attentati del 1969 a Milano molti esponenti del gruppo riconducibile a Maggi ad ordine nuovo che in quegli anni gode di libertà pressoché totale sono informatori dei servizi italiani e americani oppure sono a stretto contatto con l'UAR è il caso del responsabile armi ed esplosivi del gruppo cioè dell'uomo che cura l'approvvigionamento di esplosivo prepara le bombe e che sa dove quando e come vengono assemblati gli ordini per gli attentati cioè Carlo Di Gilio il cui padre era un informatore del servizio segreto militare americano CIC Counter Intelligence Corp che vedremo più avanti sparso in tutto il Triveneto e con uffici principali nel comando nato Ftase di Verona nella base Ederle di Vicenza e nella base di Aviano in Friuli Di Gilio è un uomo che prepara le bombe nell'estate del 1969 e nessuno saprà indicare dove abbia ottenuto le sue competenze esplosivistiche un personaggio verso il quale Maggi prende mille precauzioni protettive non facendolo partecipare a molte riunioni per tenerne segreto ruolo e mettendogli a disposizione un laboratorio d'armi a Venezia nonché la segreteria e armeria del tiro a segno nazionale del Lido ti riassegno l'elemento anch'esso di continuo ritorno in queste storie Delfo Zorzi del resto è un profondo conoscitore delle strategie politiche tanto da partecipare all'operazione manifesti cinesi nelle roccaforti rosse in Veneto del 1971 in Friuli Venezia Giulia è anche un fiorile di attentati a matrice ordine nuovo anche contro bersagli del movimento sociale italiano con la stampa che darà la colpa alla sinistra extraparlamentare o agli anarchici in una situazione di latente tensione tra diverse anime della destra tra quella parlamentare in doppio petto e quella più recalcitrante ed estremistica che a nord-est vede palesare la presenza di un gruppo neofascista organizzato e politicamente spregiudicato pronto ad applicare la strategia del gruppo F attivo ai confini nord-orientali e con disponibilità di esplosivo ed inneschi l'anno dopo è quello della strage di Peteano con la presenza di due bossoli di pistola calibro 22 usati per esplodere due colpi che hanno provocato i fori sulla 500 di Peteano quando Ventura inizierà a parlare con gli inquilenti parlerà anche della cellula che definisce nazi rivoluzionari assorta ad Udine in contatto con quella capitanata da Freda a Padova nella vicenda di Peteano emerge inoltre il ruolo di Marco Morin nelle indagini sull'esplosivo Morin successivamente consulente di parte proprio in quale processo quello del mostro di Firenze sul lavoro di Cassone riguardo Peteano leggo da Gunster sempre autore autore di Nato Secret Armies he also discovered that the report which at the time claimed that the explosive used in Peteano had been the one traditionally used by the Red Brigade was a forgery Marco Morin an expert for explosive of the Italian police had provided fake expertise sto leggendo he was a member of the Italian right-wing organization Ordine Nuovo anche se lui ha sempre negato questo and within the Cold War context contributed his part to what he thought was a legitimate way of combating the influence of the Italian communists Giorgio Cassone was able to prove that the explosive used in Peteano contrary to Morin expertise was C4 C4 the most powerful explosive available at the time used also by Nato on February 24 1972 a group of carabinieri had by chance discovered an underground arm cache near Trieste containing arm, munition and C4 explosives identical to the one used in Peteano the carabinieri believed that they had unveiled the arsenal of a criminal network years later the investigation of Judge Cassone was able to reconstruct that they had stumbled across one of more than 100 underground arsenal of the Nato linked stay behind secret army that in Italy was codenamed Gladio indagini quelle su Peteano che dopo il flop inerente alla pista brigatista tenteranno di virare verso un'improbabile pista gialla riconducibile a criminalità comune che non porterà a nulla fino all'accertamento successivo delle responsabilità aggravanti sul gruppo di Vinci Guerra in un gioco di colori e di rimpalli che vedremo anche nelle prime fasi di indagine su una bomber di digilio sono interessanti anche le dichiarazioni di riscontri sull'esistenza dei nuclei di difesa dello Stato e le connivenze tra strategia della tensione utilizzo di basi estere in Italia e rapporti con la destra eversiva sulla valutazione di Gladio fatta a Venezia del resto si regge che ad accentuare le preoccupazioni vi è la vicenda relativa all'arruolamento di paracadutisti ad opera del generale Musumeci risulta accertato che costui provide tra il 79 l'81 ad arruolare un numero imprecisato non inferiore ai 30 di ex paracadutisti addestrati alla guerriglia al sabotaggio disponendo in tal modo di un nucleo clandestino di offesa e provocazione sottratto ad ogni controllo interessanti anche le dichiarazioni di Pasquale Nottarnicola nessuno mi aveva detto che durante la mia permanenza al servizio esisteva una struttura stay behind e per quanto ne sapevo io il personale da utilizzare in operazioni stay behind era in pratica solo quello delle operazioni speciali appresi però che c'era dell'altro personale circa 20-30 persone affluito tra la fine del 79 e l'inizio dell'81 reclutato tra ex militari di leva della brigata paracadutista di Livorno della scuola di Pisa questo personale venne addestrato e per un certo periodo di tempo rimase concentrato a Roma per me si trattava di un'anomalia in quanto sarebbe stato più appropriato reclutare carabinieri come normalmente avveniva non comprendo l'utilità di personale proveniente dal servizio di leva credo che anche il generale Lugaresi condividesse il mio punto di vista tanto è vero che quando assunse la direzione del servizio sciolse questo gruppo e lo ripartì fra le varie divisioni operative ritengo che queste 20-30 persone siano state addestrate fra l'altro a capo Marrarju non so quale uso ne abbia fatto il generale Musumeci di queste persone durante la mia permanenza al servizio non ho mai saputo nulla dei depositi in asco ricordo solo che nel 1979 l'ammiraglio Martini mi fece cenno al fatto che in passato aveva dovuto spostare un deposito situato nel nord-est per evitare che fosse rintracciato dalla magistratura che indagava su Peteano oltre alla ora sono tutte dichiarazioni ripeto che servono a inquadrare il clima il contesto di quegli anni e oltre alle interessanti frasi sullo spostamento del materiale emerge chiaramente la condivisione per certi metodi di inserimento la preoccupazione per certi metodi di inserimento richiamante le direttive del caso nonché l'assunzione di personale civile o di leva totalmente estraneo alle gerarchie militari professionali di dubbia provenienza e verificabilità a proposito di Felice Cassone interessanti le sue dichiarazioni sulla strategia della tensione in Italia troviamo persino un documento parla Cassone dal quale si evinceva l'intenzione di utilizzare la destra per piccoli attentati e azioni dimostrative lo scopo era fermare l'avanzata dei movimenti progressisti in Europa partiti comunisti socialisti sindacati cattolici progressisti erano tutti nel mirino parlando in orte della centralità di Verona nella vicenda spiazza sui nuclei di difesa dello stato ebbe a dire non solo perché c'era l'humus adatto essendo una città di destra Verona era soprattutto un importante centro politico militare vista l'esistenza di basi militari che garantivano la presenza di militari di oltreoceano sapevamo che nella sede del comando oftase gli ordinovisti erano di casa Marcello Soffiatti entrava e usciva tranquillamente da quella base così come da camp darby ripeto non è mia intenzione quella di dare giudizi sull'opportunità di fare non fare questo o quello perché il contesto era estremamente complesso vi era come abbiamo visto un confronto strisciante tra due superportenze che portava a questo tipo di macchiavellismo e giudicarlo con i metri di oggi è errato noi prendiamo tutte queste dichiarazioni per rendicontare il clima e l'operatività e l'operatività del tempo a proposito di campeggi militari e rischi per la popolazione è estremamente interessante parlando della loro organizzazione la vicenda del campo paramilitare di Mainfin Sicilia nel contesto della strategia della tensione nel 1972 viene infatti scoperto nell'Agrigentino un campo militare di estrema destra in località Gurra di Mare la scoperta è dovuta ad un'aggressione compiuta dagli ospiti avvenuta ai danni dei tecnici che per conto dell'ingegner Vincenzo Di Francesco stavano effettuando rilievi e misurazioni nei territori adiacenti anche in questo caso la presenza del campo è vicina ad una locale caserma e all'interno del campo aventi apparenti finalità ricreative veniva camuffata un'attività che per aspetti esteriori e criteri organizzativi aveva fisionomia paramilitare subito dopo l'aggressione l'ingegneri e gli altri tecnici dichiararono della denuncia che fra gli aggressori venerano almeno alcuni con accento continentale mentre quasi dopo 24 ore si è proceduto alla identificazione dei campeggiatori e tra questi non risultava alcun continentale Mainfi in quel periodo era amministrata da una giunta guida PCI-PSI e ad una seduta alla camera dei deputati del 2 agosto 72 si arrivò a parlare dell'incidente con un gruppo di parlamentari del PCI quali la Torre e Tortorella che ponevano la questione delle misure da adottare per colpire i centri organizzativi dei numerosi campi paramilitari fascisti disseminati in Sicilia e in altre parti e in altre parti d'Italia un problema quindi non solo noto ma diffuso in tutto il territorio italiano inoltre aggiunsero i sottoscritti chiedono di interrogare il presidente del consiglio dei ministri e del ministero dell'interno per sapere quali provvedimenti il governo intenda prendere nei confronti dei promotori del campo paramilitare ed altri centri organizzativi di iniziative analoghe scoperte in Sicilia ed in preparazione in altre parti d'Italia aggressione che del resto palesava l'intendimento dei componenti il gruppo di celare la propattività con una preoccupazione manifestata dal PC e contrapposta alla negazione da parte dei politici dell'MSI riguardo l'esistenza di questi campi sull'unità del 2 agosto 72 si parla di una fitta rete di campi di questo tipo e a capo del gruppo di Menfi vi era un individuo già condannato per porto abusivo d'armi da guerra e più volte denunciato per delitti di violenza e associazione a delinquere ovvero Pierluigi Concutelli Concutelli che ha già al suo attivo una condanna per essere stato trovato dai carabinieri ad esercitarsi al tiro a segno dentro il poligono militare di Bello Lampo nei pressi di Palermo Concutelli che era presente a Menfi in un campo di addestramento paramilitare in cui si addestrava al tiro e ad azioni di attacco militare che nel 76 tornato in Italia dopo aver cercato di ricostituire l'organizzazione Ordine Nuovo il 10 luglio ucciderà il giudice Occorsio che proprio in quegli anni stava indagando sui legami tra eversione nera sequesti di persone e i collegamenti degli stessi ad appartenenti alla logge massoniche le forze dell'ordine riuscirono a rintracciarla nel suo covo dei via dei foraggi nel centro storico di Roma secondo gli inquirenti nel mirino di concutelli c'era proprio il magistrato Pierluigi Vigna l'attentato era stato programmato per il giorno successivo nella chiesa Santa Maria Novella a Firenze Occorsio stava istruendo quando poi è stato ucciso un processo proprio contro Ordine Nuovo forte di un livello di conoscenza dei collegamenti tra criminalità organizzata massoneria deviata e versione di destra e potere politico le indagini per l'omicidio di Occorso vengono inizialmente assegnate al magistrato di turno della procura di Roma per poi essere trasferite per competenza a Firenze e l'incaricato dell'istruttoria è il sostituto procuratore Pierluigi Vigna che molti anni dopo ricoprirà il ruolo di procuratore nazionale antimafia il sostituto procuratore indagava in contemporanea sui terroristi neri sulle responsabilità dei servizi nella strategia della tensione sulla criminalità comune che con i neofascisti aveva tanti elementi da spartire Vigna riprese il lavoro del collega proprio dal punto in cui l'aveva interrotto elemento fondamentale nella nostra vicenda per un magistrato che si ritroverà impegnato anche nelle indagini inerenti chi? il mostro di Firenze un cocktail di indagini oserei dire largamente interessante terroristi neri responsabilità dei servizi della strategia della tensione criminalità comune che con i neofascisti aveva tanti elementi a spartire e compare il mostro di Firenze risalendo ai lavori della commissione parlamentare ed inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi e al lavoro del giudice istruttore di Milano Guido Salvini inoltre veniamo a conoscenza anche del campo paramilitare Siegfriedo alcuni dei partecipanti provenivano dal gruppo Siegfried e dei gruppi di difesa dei nuclei di difesa dello Stato tenutosi effettivamente a Fort Foin per diversi giorni nell'estate del 70 nei pressi di una ex fortezza militare in alta montagna con l'addestramento all'uso di armi individuali di reparto all'uso di trasmittenti con una forte presenza numerica anche di militanti di ordine nuovo che era stata notata che aveva addestrato l'arma negli abitanti e nei turisti della zona senza tuttavia a quanto pare che le forze dell'ordine effettuassero alcun serio intervento anche qui vengono alla mente quello che disse il CASM nel 63 il tempo i rischi è interessante notare che uno degli organizzatori del campo sarebbe stato un ordinovista torinese presso il quale si erano rifugiati all'inizio degli anni 70 i triestini Neami Bressan e Ferraro in quanto temevano di essere ricercati in relazione alla prima indagine che era stata aperta per l'attentato bombarolo alla scuola slovena di Trieste che ritroveremo anche poi nella questione una bomba abbiamo quindi una serie di indicazioni sul panorama storico politico e sociale del tempo un clima di forte radicalizzazione del conflitto politico con la deriva paramilitare di alcune sigle del radicalismo politico la presenza di depositi e strutture clandestine più o meno attive o dormienti volte al supporto della lotta anticomunista in un paese nel quale la strategia della tensione e la presenza di tali strutture è più forte e capillare che in qualsiasi altro la preoccupazione per la promiscuità tra radicalismo civile e strutture e mezzi militari la presenza di nuclei di guerra fredda misto civili militari che non esitano a reclutare tra le proprie fila esaltati e personaggi borderline organizzando anche campi di addestramento che suscitano preoccupazioni ed incidenti con la popolazione civile e il timore di diverse gerarchie militari sessioni di addestramento volto anche alla padronanza delle armi e talvolta le più moderne tattiche di guerriglia di infiltrazione e desfiltrazione nonché del confezionamento di esplosivi in un clima di violenza ricatti dettato dalle contingenze non stiamo parlando di sette sataniche baccanali di campagna la pizza del nesi stiamo parlando di cose tangibili concrete dal 1974 dal 1974 poi vi è un periodo che potremmo definire transitorio nella strategia della tensione se possibile ancora più pericoloso un periodo dove la manovalanza neofascista viene lasciata a se stessa con il proliferare di scheggi impazzite passando dall'agire sull'opinione pubblica in chiave anticomunista ad una fase più moderata capace poi di transitare il paese verso il centrismo progressista in vista delle evoluzioni che caratterizzeranno gli anni 90 con la fine degli equilibri regnanti nella seconda repubblica una fase particolarmente importante viene segnata dalla caduta nel 1974 del regime portoghese un periodo nel quale la strategia della tensione e dei suoi strumenti sembrano andare in conto ad una ristrutturazione riscontrabile anche nell'espulsione degli elementi più marcatamente neofascisti della World Anticommunist League ad inizio anni 80 e la stessa strage di piazza della loggia può essere letta come un'operazione di sganciamento un terribile messaggio degli estremisti lanciato a chi dopo averli usati li aveva lasciati soli e non solo la strage di Brescia aggiungeremo noi lo stesso Vincenzo Vinci Guerra proprio nel dichiarerà proprio nel 74 e 75 l'ambiente militare ha accettato la possibilità che il partito comunista venisse integrato nel sistema democratico questo ha prodotto una situazione di crisi nella destra alla quale è venuto a mancare il sostegno primario scatenando una crisi di identità durata diversi anni in questa situazione avanguardia nazionale era allo sbando Vinci Guerra stesso del resto dichiarerà nella matrice dell'attentato di Peteano la volontà di rompere con il mondo delle collusioni tra la destra neofascista e i servizi d'orghi il 74 quindi anno centrale perché inizia un reflusso rispetto a quelli che erano stati gli equilibri fortemente anticomunisti e certe strumentalizzazioni in filiavenuti il 74 è un anno di svolta per quello che noi stiamo storicamente vedendo del 74 è un altro attentato paradigmatico quello al treno italicus personaggio interessante qui è Mario Tutti di famiglia friulana che nei primi mesi dell'anno formò il fronte nazionale rivoluzionario organizzazione armata ispirata al fascismo rivoluzionario e agli ideali dell'RSI formato da un circolo molto ridotto di estremisti toscani tutti legati al Tutti e a Cauchi che intendevano segnare una decisa rottura con la vecchia guardia del fascismo golpista e con l'uso con gli ambienti dei servizi segreti proprio in anni nei quali si stava iniziando a cogliere una faglia nei gruppi di estrema destra e la loro utilità al potere centrale l'organizzazione era attiva in Toscana e disponeva di un'ampia dotazione di armi ed esplosivi l'FNR compie attacchi dinamitardi contro luoghi pubblici rivendicando una bomba alla Camera di Commercio di Arezzo e firmandosi come comando Carlo Martello e soprattutto alle linee ferroviarie la loro responsabilità è stata giudiziariamente accertata per alcuni attentati compiuti sulla linea Arezzo chiusi tra il 74 e il 75 del resto l'autore sia del volantino che delle telefonate anonime viene individuato la sera stessa del 5 agosto si tratta di un personaggio interno all'estrema destra bolognese con problemi psichici evidenti a conferma della permeabilità di questi nuclei a personaggi quantomeno suscettibili e sempre nel 74 del resto e sulla scorta delle indagini della procura bresciana si individuano i nuclei di difesa dello Stato l'organizzazione clandestina che fin dagli anni 70 è emersa dietro stragi omicidi e operazioni di condizionamento della vita politica dalle dichiarazioni di Andreotti in Parlamento riguardo Gladio invece parte l'analisi su due elementi altrettanto misteriosi della storia repubblicana in grado di spingersi fino agli anni 90 l'emersione della falange armata e i delitti della 1 bianca più di 500 telefonate in tre anni e mezzo in orario di ufficio che dimostrano la piena disponibilità di una rete informativa all'interno dell'apparato pubblico come ritiene la magistratura è l'inizio dell'attività della falange armata ovvero l'aprile 90 avviene contestualmente con la scoperta dal parte del giudice veneziano Felice Casson dei depositi clandestini di Gladio scoperta che prelude allo scioglimento della struttura da parte del governo alla decapitazione del sismi e ad una stretta maggior controllo da parte del potere politico i collegamenti tra le due realtà erano costituiti dalla comparsa ufficiale della sigla che avviene nel maggio 90 in coincidenza con l'avvio di indagini della magistratura veneziana sulle operazioni di recupero di armi ed esplosivi in depositi a disposizione dei servizi di sicurezza il sospetto è che la falange disinformi e intimidisca per allontanare i sospetti da Gladio con addetti ai lavori che parlano in gergo tecnico e militare parlando delle azioni della Uno Bianca inoltre secondo l'edizione di un telegiornale andato in onda all'epoca su Rai 3 la scelta di Cesena quale teatro dell'ultimo delitto della Uno Bianca può non essere casuale a Cesena abita il senatore Libero Gualtieri presidente della commissione stragi ora impegnato sulla vicenda Gladio il senatore Gualtieri prendendo in esame l'assalto criminale all'Emilia Romagna ha richiamato analogie con l'azione di un gruppo terroristico che nel decennio passato ha provocato una trentina di vittime in Belgio risultarono schegge impazzite di organi dello Stato sfuggite al controllo parliamo di Uno Bianca ma spostandosi in Belgio è impossibile non pensare alla banda del bravante di cui parla Gualtieri in tal proposito ricitiamo Ganser in Belgio il ministro Socialist Socialist di defensa Guy Coem ha avuto un pubblico quando ha confermato che un'attrope un'attrope ha anche esistito in Belgio con un'implicita referenza alle massacrari in degli 80 durante cui le persone erano sconfate da misteri uccidere in bianca in diversi supermercati e ancora Senato Roger Lallemande head of the Belgium Gladio investigation had to drawn the correct historical analysis when he summarized that the Brabant massacres had been the work of foreign government or of intelligence services working for foreigners a terrorism aimed at destabilizing democratic society Senato Lallemande insists that the terror had to be seen in a Cold War anti-communist political context this gratuitous killing of people could have a political motive one recalls what happened in Italy at the station at Bologna 80 innocent people died we think a political organization was behind the Brabant wallon killings anche queste azioni criminali di grande ferratezza utilizzate per tempistare e quindi lanciare segnali e rivendicazioni dal principio fino al termine della guerra fredda e della strategia dell'attenzione capitolo 3 veniamo al mostro fatta una sostanziale premessa su quello che è lo scenario sociale geopolitico e politico dell'Italia del tempo è ora di iniziare ad occuparci nello specifico della prima delle due vicende trattate ovvero quella del mostro di Firenze abbiamo detto che negli anni attorno al 73 al 74 inizia un progressivo smantellamento delle precedenti coperture offerte alla monovalanza neofascista è nel 1974 che il mostro inizia a colpire in una fase transitoria della strategia della tensione fatta di scheggi impazzite azioni dimostrative e anche di ricatto provenienti dalla precedente fase quella nera e fortemente anticomunista interessante sotto questo punto di vista il discorso delle armi con una dinamica comparativa con quanto visto in precedenza teniamo bene a mente che le armi nei depositi nasco erano spesso armi in dotazione all'esercito e con matricola a brasa quindi molto appetibili senza matricola non poteva esserci alcun registro d'armeria e quindi nessuno poteva essere sicuro di quando e cosa stava ritirando e soprattutto da chi o cosa sarebbe poi stato usato ricordiamo che negli anni caldi dei delitti del mostro le beretta calibro 22 immatricolate ed ufficialmente risalibili sono state controllate tutte in un lavoro minuzioso l'ipotesi che quindi l'arma del mostro provenga da un circuito clandestino è altamente probabile e nella storia di un delitto o di più delitti l'importanza dell'arma non è secondaria è fondamentale è fondamentale nel già citato deposito di aurisina ad esempio al tempo della strage di peteano oltre a svariati detonatori a strappo è presente una calibro 22 americana high standard tre mesi prima dell'agguato di peteano vengono visti nei pressi del deposito personaggi ben noti come fascisti in tutta mimetica secondo gli inquirenti del luogo il deposito sarebbe potuto appartenere a qualche struttura le indagini attorno a questo ritrovamento con addirittura l'archiviazione delle indagini se si fosse accertato che tali armi fossero effettivamente appartenute al SID viene così compilato un rapporto piuttosto discutibile per l'autorità giudiziaria il comando territoriale indica infatti al magistrato inquirente tre ipotesi a che le armi fossero di indipendentisti croati b di estremisti italiani e stranieri c armi di contrabbando una storia di controspionaggio e possibili depistaggi che ricorre anche nella vicenda del mostro come vedremo basti per ora dire che anche nei campi paramilitari della Calvana in uso il terrorismo nero all'anonima sequestri Sard fu trovato un ampio quantitativo di armi in quegli anni e addirittura nel 2011 la zona del Fiorentino fu toccata da un'indagine su un campo militare nelle colline di Scandicci con un presunto contactor libico che si sarebbe addestratto proprio in quei luoghi se parliamo di arsenali e depositi nascosti inoltre è impossibile non pensare al ritrovamento nel 1993 nel famoso monolocale di via Sant'Agostino a Firenze di un arsenale contenente un sacco di proiettili Winchester calibro 22 letter H via Sant'Agostino che con buona probabilità era una delle basi coperte del controspionaggio fiorentino e nello scatolone ritrovato nell'appartamento vi sono anche estrari contenitori cilindrici il ritrovamento di questo materiale è datato 3 marzo 1993 il sequestro 10 marzo e cosa sia successo in quei sette giorni è un mistero ritrovamento confermato anche dallo stesso PM Mancuso che avrà a dire noi andiamo a fare una perquisizione al centro sismi di Firenze che si era reso responsabile di coperture pergelli e della fuga di cauchi e venivamo ad individuare un locale che era occulto non faceva ufficialmente parte del centro sismi di Firenze ma era in un sopraelevato in un piano superiore dotato di microfoni dove c'erano una serie di armi da guerra micidiali tutte oleate non sembrò colpire inoltre nemmeno la circostanza che alla presenza di proiettili calibro 22 in luogo non corrispondesse alcuna arma del medesimo calibro e che le palottole Winchester erano proprio quelle utilizzate negli omicidi del mostro il tipo diciamo eppure i periti balistici in tal caso erano i consulenti chiamati in diverse occasioni a prestare il proprio sapere ai magistrati riguardo proprio agli omicidi del mostro l'ultima volta nel 1987 nell'ambito del procedimento nei confronti di Salvatore Vinci quando erano stati incaricati in coppia di periziare i boss e i proiettili sparati tra il 68 e il 1985 concludendo peraltro la loro perizia sostenendo l'unicità della pistola utilizzata in tutti i delitti a proposito del ritrovamento di arsenali nel febbraio 2010 a Pescia nel corso della ristrutturazione di un appartamento spuntò un altro arsenale di armi con detonatori emice detonanti a lenta combustione nove fucili 21 pistole mitragliatrici 27 pistole semiautomatiche 13 revolver e numeroso munizionamento nonché 20.450 cartucce calibro 22 la casa era appartenuta ad un generale che aveva però sempre vissuto altrove morto l'anno precedente a rinvenimento e che aveva prestato servizio al sisme però insomma rinvenimento interessante un altro elemento interessante che ci congiunge i temi trattati in precedenza è la serie di inquietanti coincidenze con il mondo dell'estrema destra neofascista che troviamo nei vari delitti del mostro in primis la coincidenza delle date l'omicidio Pettini-Gentilcore del settembre 74 si svolge poche ore dopo una celebrazione con tanto di marcia partigiana della liberazione di Vicchio dal nazifascismo la stessa vittima Stefania Pettini era figlia di un ex partigiano e attivista del PCI locale e ci sono forti sospetti che il mostro potesse conoscere la ragazza e la sua famiglia l'omicidio alle Bartoline di Calenzano dell'ottobre 1981 avvenne un giovedì elemento strano per il mostro che di solito colpisce nei giorni più centrali dei fini settimana e avvenne prima di uno sciopero generale le coincidenze con il mondo delle versioni a di destra toccano la stessa fattispecie dei delitti basti pensare alla vicenda di Giancarlo Esposti Alessandro Dentino e Umberto Vivirito Alessandro Danieletti quelli del Pian del Rascino che abbiamo visto prima quattro neofascisti che a bordo di un fuoristrada partirono da Milano diretti verso la montagna Reatina e dopo varie peregrinazioni si accompagnarono presso si accamparono presso l'altopiano di Rascino tra Abruzzo e Lazio nei pressi di una postazione assimilabile anch'essa come un campo militare dove poi fu ritrovato un gran numero di armi ed esplosivi e furono anch'essi uccisi in tenda come la coppia di turisti francesi undici anni dopo nel delitto del settembre 1985 ancora più interessante è la storia incrociata a quella dell'attentato a Bernardo Leiton esponente di Spicco della democrazia cristiana cilena il suo nome si ricorda per la partecipazione ai governi democristiani cileni e fu uno dei pochi che prese pubblicamente posizione contro il colpo di stato del 1973 nell'autunno del 1973 dopo il golpe Pinochet venne invitato in Italia da Gilberto Bonalumi esponente della DC per portare la sua testimonianza riguardo i recenti avvenimenti tenne diverse conferenze in cui descriveva la situazione che in quel momento vigeva in Cile una situazione di assoluta violazione dei diritti umani questa attività portata avanti da Leiton turbava ovviamente Pinochet motivo per il quale nei primi mesi del 74 a Leiton venne fatto di vieto di rientro in patria e divenne esule forzato in Italia il 6 ottobre del 75 fu vittima di un attentato vicino alla sua abitazione in via Aurelia attentato perpetrato da neofascisti italiani ma organizzato dalla DINA ossia la Direzione d'Intelligenza Nazionale l'attentato fu preceduto da una fase di osservazione per capire le abitudini di Leiton e di sua moglie Anita Fresno una volta capite le abitudini di Leiton e di sua moglie i due sicari li attesero fuori dalla loro abitazione esplodendo dei colpi con una pistola di grosso calibro i proiettili essendo stati sparati con una pistola di grosso calibro non rimasero dentro il colpo ma uscirono fuori fu l'unica ragione per cui i due coneggi sopravvissero e non morirono di colpo gli autori sono militanti delle due principali organizzazioni del neofascismo italiano avanguardia nazionale e ordine nuovo tra le principali responsabili della strategia dell'attenzione in particolare a tenere i contatti con la Dina e occuparsi dell'aspetto logistico secondo la magistratura fu Stefano Dallechiaie mentre colui che materialmente eseguì l'attentato fu ancora una volta Pierluigi Concutelli Dallechiaie era uno dei personaggi più noti della galassia neofascista italiano leader indiscusso di avanguardia nazionale Concutelli era invece membro dell'altra organizzazione vale a dire ordine nuovo e entrambe le organizzazioni pur essendo distinte per molto tempo hanno lavorato gomito a gomito subito dopo l'attentato iniziarono le operazioni di depistaggio che si articolarono su più fronti qualche giorno dopo l'attentato apparve sulla Segunda qualche giorno dopo l'attentato apparve sulla Segunda un giornale cileno un comunicato di rivendicazione da parte di una fantomatica organizzazione Sero un'organizzazione terroristica anticomunista che avrebbe compiuto l'attentato ma la cosa che più stupisce è il fatto che anche i servizi italiani in particolare il SID parteciparono ad operazioni di depistaggio infatti inizialmente emanarono una nota in cui imputavano la responsabilità dell'attentato al movimento di schierda rivoluzionaria un movimento guerrigliero cileno successivamente invece comunicarono alle autorità la posizione di una roulotte a Roma in zona portuense all'interno della quale vennero ritrovati dei documenti firmati dai nuclei armati proletari anche essi rivendicanti l'attentato subito da Leiton qualche anno dopo durante una perquisizione nel covo di via Sartoria il più frequentato dai fascisti di avanguardia nazionale ordine nuovo venne invece ritrovata una mappa che indicava il punto esatto in cui quella roulotte si trovava motivo per il quale solo successivamente gli inquirenti hanno collegato l'attentato a Leiton ad avanguardia nazionale sia dalle chiaie che con Cutelli tuttavia furono assolti per l'attentato ok e solo successivamente la magistratura li riconobbe colpevoli però essendo stati assolti già in via definitiva secondo la legge italiana non si può essere processati due volte per lo stesso reato interessante da questo punto di vista è il parallelo con il misterioso delitto di Giogoli il primo nel quale il mostro colpisce una coppia di uomini sia pure uno di essi con i capelli lunghi spesso si è identificata questa scena come un errore altre volte con l'esigenza di colpire a tutti i costi da parte del mostro nessuno ha messo in relazione la similitudine della gira dei killer eversivi verso la coppia con quella che il mostro riservava alle sue vittime compresa la probabilissima fase di studio per intervento nonché la presenza di una roulotte che nel caso del mostro vede l'autore dei delitti entrare nel veicolo strappando e sparpagliando il materiale cartaceo e le riviste ivi presenti che se teniamo valido il parallelo con l'agguato a Leighton sembra voler stracciare a tutti gli effetti i documenti falsi e gli impistaggi verso sinistra trovati nella roulotte in questione un segnale in codice da parte di certi ambienti quasi minaccioso che ben sapevano non fosse di matrice rossa l'attentato al politico cileno utilizzando una coppia presente in loco quale messaggio attraversale al mondo degli inquirenti e dell'avversione sommersa lo stesso Pacciani ebbe delle controverse esperienze durante la resistenza e il vanni come dai lari scene processuali non tardava a manifestare simpatia di estrema destra fosse interpretabili come segnali di rassicurazione proprio a quegli ambienti avversivi che imperversavano come abbiamo visto nella Val d'Arno nella storia quasi rimarcare fedeltà e bocche cucite scene che sono diventate un meme ma che forse potrebbero essere rivisitate in una chiave molto più oscura se ci spostiamo alle modalità operative dei delitti del mostro anche queste possono essere messe in relazione non solo alle categorie sigint viste prima ma anche a delle dichiarazioni che Amos Piazzi riguardo al suo agire a Verona ebbe a dichiarare vi erano poi le talpe personaggi scialbi che potevano continuare a mantenere nei luoghi di lavoro dalle prefetture alle fabbriche il loro posto ma che potevano fornire utili informazioni da passare ai trasmettitori collegati via radio con l'esercito amico delle staffette un ruolo operativo che può richiamare sia se pensiamo alle prefetture agli appoggi richiesti per continuare ad indagare gli inquirenti per un lasso di tempo così importante sia pensando ai personaggi scialbi alle fabbriche a ruolo di informatore che il parterre dei compagni di merende poteva offrire al gruppo di fuoco che comperà i delitti del mosto di Firenze in qualità di osservatori informatori conoscitori dei luoghi e possibili vedette un ruolo di informatori del gruppo d'azione che spiegherebbe anche le ingenti disponibilità di denaro a disposizione del Pacciani in un procedimento che oltre al livello dei compagni di merende non è mai andato o forse non poteva andare per quanto riguarda i dubbi inerenti le indagini gli elementi coinvolti e le strade prese dalle indagini il coinvolgimento del SISD diventa manifesto quando il criminologo Francesco Bruno nominato consulente tecnico della difesa di Pietro Pacciani dichiara durante un'udienza processuale del 94 di essere collaboratore dei servizi tramite un lavoro di profilazione commissionato da Vincenzo Parisi lo stesso Bruno si renderà poi autore di una a mio avviso poco convincente ricostruzione del profilo del mostro sulla base della teoria del killer solitario un uomo mai individuato di intelligenza superiore alla media mosso da delirio religioso e suggestioni moralistiche interessante dal punto di vista del coinvolgimento di personaggi molto ben informati anche quel che accade successivamente all'importante episodio omicidiario di Baccaiano di Montespertoli Lorenzo Allegranti è l'autista dell'ambulanza che quella tragica notte aiutò ad estrarre il corpo ancora vivo di Paolo Mainardi dalla Seat Blue e che al processo giurerà assieme ad altri testimoni non creduto che il giovane si trovava non sul sedile anteriore ma su quello posteriore dell'auto qualche giorno dopo il duplice omicidio Allegranti si presenta alla stazione dei carabinieri di Montespertoli per denunciare anche qui un'inquietante telefonate qualcuno che parlava un italiano privo di inflessioni dialettali gli ha telefonato a casa l'anonimo e che quindi non poteva essere né il Pacciani né il Vanni l'anonimo dice di telefonare per conto della procura di Firenze vuole sapere cosa gli abbia detto il giovane Mainardi durante il percorso in ambulanza prima di morire in ospedale Allegranti gli risponde che se la procura vuole sapere qualcosa da lui deve convocarlo ma l'interlocutore si mostra alterato prova ad insistere e poi interrompe bruscamente la comunicazione i carabinieri verbalizzano e trasmettono la denuncia alla procura di Firenze ma il verbale muore lì le telefonate ad Allegranti però non cessano perché lo sconosciuto gli telefona di nuovo a casa una volta persino sul luogo di lavoro chiedendo sempre cosa gli abbia detto il Mainardi trascorrono due anni siamo a fine luglio 84 c'è stato da poco il duplice delitto di Vicchio con vittime Pierontini e Claudio Stefanacci Lorenzo Allegranti si trova con la famiglia in vacanza in una pensione di Rimini una sera sta cenando quando un addetto alla reception lo chiama al telefono e ancora una volta la voce è quella dello sconosciuto stai attento dice la voce tu sei un uomo finito Allegranti anche stavolta va dai carabinieri di Rimini racconta ogni cosa i carabinieri verbalizzano fanno una relazione e aprono un procedimento contro i gnoti per il reatto di minacce gravi verbale e denuncia arriveranno più di 13 anni dopo sul tavolo dei giudici su sollecitazione del difensore di Mario Vanni chi poteva sapere che l'Allegranti si trovava nel 1984 in vacanza a Rimini su di un avvenimento oltre modo centrale nella nostra vicenda come vedremo ora quello del delitto di Baccaiano di Montespertoli un capitolo a parte meriterebbe la discussione sul delitto del 1968 e sulla sua reale paternità a differenza degli altri il duplice omicidio del 68 fu collegato 14 anni dopo i fatti grazie a quella che è stata definita dall'autorità giudiziaria una fortuita ed inspiegabile combinazione ossia il ritrovamento di 5 bossoli e 5 proiettili nel fascicolo processuale dell'uomo che aveva confessato il delitto le prove si sarebbero dovute trovare nell'ufficio corpi di reato non nel fascicolo ciò implicava che la custodia legale era venuta meno inficiandone il valore sulla scrivania del giudice istruttore Vincenzo Tricomi arrivano i faldoni che compongono il fascicolo del caso Mele li aveva chiesti 4 giorni prima al tribunale di Perugia che di rimando gli ha fatto sapere che si dovrebbero trovare a Firenze all'interno di uno di quei faldoni forse graffettato all'aperizia balistica il giudice trova un sacchetto con 5 bossoli e 5 proiettili che gli verranno prove 20 anni più tardi il PM Giuliano Mignini dirà che a Firenze in Cassazione a Perugia poi ancora a Firenze per 8 anni circa che nessuno si sia accorto che al fascicolo processuale erano legati i bossoli appartenenti ai proiettili utilizzati per un duplice omicidio in aperta violazione delle disposizioni del codice è un qualcosa che a menti critiche come quelle che si presumono in operatori del diritto non può non lasciare francamente increduli qui subenta la figura e l'opera di un misterioso personaggio Aurelio Mattei Mattei un criminologo probabilmente anche gli collaboratori del Sisde sul caso mostro è anche uno scrittore del thriller Coniglio il martedì che ho letto ovviamente che avremo modo di analizzare attentamente tra poco il libro è palesemente ispirato alle vicende del serial killer Fiolentino e lì un narrante del racconto l'assassino si introduce con un inganno nell'ufficio corpi di reato di un tribunale proprio sostituendo bossoli e proiettili con delle repliche il protagonista del libro deve scogitare un modo per accedere alle prove perché nel suo caso sono sigillate e custodite nel luogo appropriato si è visto che quelle del 68 invece non erano nemmeno in questo ufficio bensì conservate direttamente nel fascicolo processuale di Mele all'insaputa dell'autorità giudiziaria e la portata di tutte le persone che lo hanno consultato dunque sarebbe stato paradossalmente più semplice per un depistatore reale che non è il protagonista di Mattei sostituire le prove per avvalare un collegamento tra i delitti che non c'era forse Mattei all'epoca ritenne la sua ipotesi troppo compromettente decidendo di romanzarla eppure è un'eventualità ma un'eventualità piuttosto inquietante perché se qualcuno ha deciso di sostituire le prove rinvenute nel fascicolo Mele quel qualcuno deve essere il mostro o un complice dello stesso perché i bossoli e i proiettili lasciati appartengano sicuramente al mostro oltretutto se si analizzano le perizie balistiche e si comparano le analisi compiute nell'immediatezza dei fatti sui bossoli trovati a Castelletti di Segna nel 68 e a Rabatta nel 74 appaiono diversi segni del percussore impercettibili nel 68 e ben visibili quelli dei delitti successivi di sicuro il delitto di Baccaiano e l'abile blef confezionato dalla della Monica nelle sue immediatezze ovvero dire ai giornalisti che la vittima maschile aveva fatto in tempo a rivelare qualcosa avevano probabilmente spaventato il gruppo d'azione del mostro ed è proprio in occasione di questo spavento che parte per coincidenza la lettera anonima che invita a riguardare il fascicolo del 68 con allegata alla straordinaria scoperta dei bossoli guarda caso ritenuti compatibili allegati al fascicolo del delitto ritrovamento poi che permette di aprire la infertile pista Sard che i svariati anni di indagini impedinamenti e carcerazioni ha portato ad un nulla di fatto e con il magistrato della Monica dubbioso anche riguardo le modalità di apertura di quella pista vedersi la lettera anonima richiesta e mai ritrovata singolare anche che tutti si ricordino del delitto del 68 solo nel 1982 sebbene diversi inquirenti fossero gli stessi per carità quelle del ritrovamento del fascicolo e la riscoperta del delitto del 68 proprio dopo Baccaiano e i rischi corsi dal mostro sono illuminazioni e coincidenze possibili ma è vero anche che questo sommato alla suggestione di Mattei può portare a credere che il gruppo del mostro di Firenze fosse composto da qualcuno o qualcosa non solo di inconfessabile ma pure capace di influire sul corso delle indagini tanto da infliggere loro un colpo pressoché mortale scoprire scoprire l'abile blef della monica dopo il delitto di Baccaiano e depistare le indagini sui delitti delle coppiette in anni nodali e freschi per una loro risoluzione in una strada in fertile opzione sarda che non porterà a nulla se non allo spreco di anni ed indagini e processi alcuni tra i quali Filastò credono che sia addirittura il mostro in persona ad aver spedito questa lettera anonima ciò non spiegherebbe tuttavia la straordinaria coincidenza di trovare anche i proiettili compatibili attaccati al fascicolo più probabile invece si sia trattata di un'azione combinata fatta sapendo che al fascicolo del 68 si sarebbero trovati allegati dei proiettili riconducibili al mostro e fatta anche i danni degli inquirenti con la della monica che sarà successivamente ringraziata per questa intuizione e per quel blef molto abile con la lettera contenente il lembo di seno di Nadine Mario autrice di un blef che tra l'altro convince il mostro o il personaggio a lui vicini a contattare direttamente l'allegrante minacciandolo e tentando di informarsi voracemente e continuativamente presso di lui sulle possibili rivelazioni della vittima arrivando a chiamarlo anche nella meta dove era in vacanza anche riguardo il delitto del 68 e le sue analisi ci sono dei dubbi dalle rilevazioni al fatto che che Mele si sia trasformato in un freddo assassino dopo che la moglie lo tradiva continuativamente da anni al fatto che il bambino appena arriva alla casa in campagna dice mio papà è ammalato a casa come prima cosa quasi ripetere un copione oltretutto la Locci già temeva di essere ucciso probabilmente si tratta di un delitto di criminalità comune o interno all'ambiente sardo certo i dubbi sulla vera colpevolezza del Mele restano così come la validità della prova del guanto di paraffina eliminata solo qualche anno dopo perché responsabile di troppi falsi positivi a fronte dell'uso di particolari solventi fertilizzanti coloranti e saponi materiali oltretutto compatibili con il lavoro del Mele al tempo riguardo la paternità dei delitti delle copiete da parte del clan dei Vinci tuttavia i dubbi sono ancora maggiori poiché i restanti sardi erano tutti in carcero fortemente sorvegliati mentre il mostro continuava in perterrito a colpire proprio riguardo il delitto di Nadine Moriot e Kravicvili vittime agli scopeti ci sono ulteriori elementi che possono aiutarci a comprendere la provenienza non comune dell'autore dei delitti fra il 1984 e il 1985 ci sono delle novità nella caccia all'assassino con protocolli di investigazione in piena mostrofobia a. vi è un accordo tra procure e autostrade che gli uomini soli durante il weekend prendessero l'autostrada venissero segnalati b. esisteva un accordo tra procura carabinieri e polizia che alla scoperta di un luogo del delitto sarebbe stata fatta una cintura circoncentrica attorno alla scena del crimine c. c'erano delle finte copiete di carabinieri e polizia appostate per cercare di attirare e conseguentemente neutralizzare il mostro d. vi era il prepotente inizio dell'importanza delle tracce di dna ora analizzabili ed intracciabili con le moderne tecniche scientifiche di importazione anglosassone nel 1985 con il delitto degli scopeti il mostro risponde ad ognuno di questi punti uccide la coppia in una tenda rispetto a tutti gli altri casi dove la vittima è esposta nasconde i cadaveri manda la lettera alla della monica ma utilizzando la colla al posto della saliva per chiudere la busta e non ci sono impronte digitali risalibili colpisce una coppia di stranieri e non evidentemente una coppia italiana che poteva più facilmente essere una falsa copietta di carabinieri e poliziotti oltretutto si fa vero similmente 60 km di strada la sera stessa del delitto evitando accuratamente l'autostrade per imbucare la lettera una aperta sfida agli inquirenti che appare anch'essa una dimostrazione di forza e di vicinanza con un elemento punitivo verso forse l'unico magistrato che aveva messo in difficoltà il mostro sfruttandolo alle impudenze a baccaiano solo qualche anno prima gli inquirenti o elemento punitivo ovviamente la lettera con il lembo di seno che scioccò comprensibilmente gli inquirenti oltretutto avevano il forte sospetto che una fuga di notizie ci fosse ed il 1985 diventa un maglio di certezze sotto questo punto di vista c'era l'impressione che l'assassino forse sempre un passo avanti specialmente se pensiamo oltretutto che queste azioni vengono poste in essere in un clima di pieno allarme sociale argomento quello della fuga di notizie che in procura risultava quasi tabù può tutto ciò essere nelle corde di un Vanni di un Lotti o di un Pacciani analizziamo allora la controversa pubblicazione di Coniglio il martedì interessante notare come anche in essa rientri quella definizione di ragioniere del crimine in larga parte è condivisibile se si analizzano i delitti del mostro così come interessanti elementi si aprono sin dalla dedica stessa del volume chi sarebbe il col Alberto Mario Corsi a cui il volume è dedicato? Mario Corsi esiste ma faceva parte dei NAR a cosa ci si riferisce a proposito dei fascicoli e dei rapporti sfogliati da Cadone parla di memoria storica di gran parte delle persone della città e di puzza che ricordava una fogna gonfia di liquame settore quello fognario da sempre affiancato ad una lunga tradizione per sbeffeggio di una porzione politica note a cosa ci si riferisce quando nella descrizione del personaggio Steri si parla di nicchia di potere costruita nel sotterraneo non si costruiscono nicchie di potere negli scantinati se non pensando a possibili depistaggi un romanzo che sembra accusare anche i membri delle indagini e con strani abboccamenti si pensi che il primo indiziato del delito che troviamo nel romanzo è un militare in servizio e nello stesso romanzo ci viene detto che i delitti si risolvono nei primi tre giorni sebbene poi anche la figura del colpevole finale ovvero il protagonista abbia estreme similitudini con un personaggio ben presente nella vicenda reale del mostro si parla di show del vicequestore di proiettili sovrapponibili si parla addirittura delle stragi sui treni come unico delitto rimasto impunito nei pressi della città assieme al primo omicidio della serie si segnala che i bossi del primo delitto vengono fotografati alla rinfusa ed è addirittura presente una possibile matrice terroristica dei delitti contenuta in una frase inquietante non è la prima volta che un gruppo criminale compie azioni all'apparenza prive di motivazione al solo scopo di terrorizzare l'opinione pubblica e far apparire le istituzioni incapaci di affrontare il fenomeno non è la prima volta che un gruppo criminale compie azioni all'apparenza prive di motivazioni al solo scopo di terrorizzare l'opinione pubblica e far apparire le istituzioni incapaci di affrontare il fenomeno interessanti interessanti anche i rimandi al possibile ruolo dei guardoni quindi stragi dei treni libro che ricalca quasi alla perfezione la storia del mostro di Firenze gruppi criminali che compiono azioni per terrorizzare come abbiamo visto anche successo in Belgio non sono in Italia interessanti anche i rimandi al possibile ruolo dei guardoni e aggiungiamo noi in linea di massima dei compagni di merenda nei delitti del mostro con la frase ritengo probabile che le perlustrazioni prima di compiere un delitto vengano fatte con personaggi di un tale ambiente ovvero i guardoni interessantissima anche l'istruzione al tiro e all'uso della pistola ricevuta dal protagonista al poligono di tiro e distruita da un ex paracadutista parlando dell'autore dei delitti emerge l'idea che sia uno psicopatico lucido astuto di un'intelligenza superiore alla media un vero stratega in grado di indurre il terrore in migliaia di persone e diciamolo pure di prendere in giro e di infinocchiare inquirenti criminologi ed esperti di ogni genere con l'utilizzo congiunto ed emblematico dei temini stratega e terrore interessante anche l'opera di identikit che proviene dall'analisi dei delitti con un esperto americano appositamente arrivato da oltreoceano che parla di esigenze tattico-militari nel colpire prima il maschio della coppia dipingendo nuovamente l'assassino come estremamente lucido e programmatore non stupendosi se esso provenisse da una cultura di tipo anglosassone è presente in zona nello stesso depistaggio telefonico operato dal protagonista si sceglie il nome Pan dipingendolo come un nome di battaglia ed estremamente interessante anche il particolare del guardone utilizzato per spedire le lettere di depistaggi elemento che poi finirà con l'incriminare il guardone stesso con un possibile parallelo rispetto alla vicenda Paccianio o compagni di merende ciò che resta di questo libro è la sensazione di sfida verso gli inquirenti dell'autore dei delitti come se avesse avuto a che fare con loro nonché la capacità di manomettere i bossoli di un delitto del tutto estraneo a quelli in danno delle coppie per depistare gli investigatori arrivando addirittura dentro l'archivio di un tribunale per mettere a punto il suo lavoro di deviazione forse Aurelio Mattei ha avuto la prova che la cosiddetta pista sarda sia frutto di un depistaggio nato con una sostituzione dei bossoli interessante anche il ritorno del protagonista a casa della madre ubicata in una cittadina di provincia dove secondo il protagonista proveniva la 127 degli autori dell'agguato a suo danno madre rimasta vedova e rimando alle visite domenicali che lui le rendeva le visite al cimitero del paese a trovare il babbo che il protagonista compie una storia comune con un'altra persona che nelle ultime fasi della vicenda del mostro di Firenze ha avuto un certo interesse coincidenze che si spingono fino all'età della madre del protagonista e alla prigionia del padre in un campo di concentramento francese nel 1945 a Dorano in Algeria campo di azione della legione straniera durante il conflitto franco-algerino così come ritagli di giornale dei delitti conservati proprio a casa della madre e di cui la stessa poteva essere venuta a conoscenza la sensazione è che anche questo libro non parli di piste esoteriche sette sataniche piramidi tronche ma di fatti concreti inerenti depistaggi background storici e sociali del territorio cose estremamente interessanti un'altra suggestione degna di menzione ed attenzione inerente allo sviluppo delle caratteristiche omicidere del mostro è quella proposta dall'avvocato Filastò anche egli del resto particolarmente sensibile riguardo la tematica del possibile coinvolgimento dei servizi nella vicenda tema che affronteremo nelle conclusioni la suggestione è quella sulla possibile influenza del trailer del film Maniac del 1980 di Joe Spinell diretto da William Lustig sulle azioni del mostro in Firenze che sarebbe rimasto fortemente colpito ed impressionato dalla rutilante riproposizione dello spot specialmente nelle televisioni che sponsorizzavano l'uscita della pellicola ai tempi sicuramente impattante e controversa insomma Filastò dice che il mostro avrebbe preso come ad esempio questo tipo di pellicola e il trailer che veniva riproposto forse la visione di questi spezzoni con il richiamo alle donne che ti fanno diventare pazzo con i loro sorrisi può aver scatenato nel mostro qualche suggerimento operativo più che simili parallelismi può risultare interessante l'arrivo del mostro sul luogo degli agguati mi ha colpito più la scena del colpo di fucile sparato dal parabrezza che tutto il rimanente ma per il resto è una pista che io non giudico particolarmente feconda se non per l'appunto da una visuale prettamente psicologica che potrebbe essere interessante dal punto di vista pratico se non risalendo a chi effettivamente in quegli anni può aver avuto visione del film al cinema nel reale fiorentino ma è un'operazione pressoché impossibile sicuramente il pensiero che la visione di un film o di un altro suggerimento simile possa aver avuto un ruolo nella scelta di compiere le escissioni è però un elemento non peregrino e che rilancia ciò che anche qui nel capitolo introduttivo abbiamo cercato di dire ovvero che le escissioni compiute dal mostro non hanno un carattere di esigenza sessuale o di maniacalità bensì hanno un carattere scenico che può essere stato importato da diversi stimoli o suggerimenti non essendo un'esigenza interiore derivata dalla sfera strettamente sessuale dell'individuo interessante però da questo punto di vista se si vuole parlare del rapporto con la madre o con le donne in generale è la figura del giustiziere già rilanciata da Coniglio il martedì in relazione anche qui alla stagione sociale e politica che si stava vivendo ricordiamoci che l'Italia degli anni in cui il mostro inizia a colpire anche l'Italia che nel 74 porta gli italiani alle urne per il referendum sul divorzio la stessa vicenda del mostro porterà a cambiare radicalmente le abitudini del costume dei giovani fiorentini spingendo a costituire zone altamente sorvegliate e concentrate per permettere loro di scambiarsi e fusioni in sicurezza nel periodo della piena mostrofobia l'avanzare delle sinistre democratiche i primi ecchi libertari nella stagione dei diritti mescolati all'humus politico di provenienza del possibile gruppo di fuoco possano aver scatenato in una mente già compromessa una volontà di punizione sociale dello scandalo delle coppie che all'aperto facevano l'amore in particolare nella figura femminile discorso interessante ma forse più di ambito psicologico a proposito di bossoli e proiettili abbiamo visto in precedenza la figura di Marco Morin emergere nel capitolo precedente e sarebbe superficiale e non occuparci della sua presenza come consulente della difesa Pacciani proprio nel processo del mostro di Firenze in tal proposito ho trovato un articolo dal sito di Gianni Barbacetto che vi leggo fossimo in America gli avrebbero dedicato un film Marco Morin super esperto di armi ed esplosivi è morto 82 anni nella sua casa di Campo San Polo a Venezia portando per sempre nella tomba i suoi segreti questo uomo è stato per decenni consulente balistico dei tribunali o perito legale di parte nei processi su alcuni dei più delicati casi giudiziari della storia italiana dall'omicidio del commissario Luigi Calabresi a quello di Aldo Moro dall'assassinio del presidente della regione Sicilia per Santi Mattarella a quello del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa e poi il maxiprocesso di Palermo il caso del mostro di Firenze la strage di Peteano nel 1967 a 29 anni era sottotenente di complemento dell'aeronautica militare in servizio all'aeroporto di Treviso gli trovano in casa sette pistole munizioni una bomba a mano e pezzi di armi da guerra viene processato e condannato eppure qualche anno dopo diventa grande amico dei giudici veneziani e il più richiesto dei periti balistici giudiziari tanto che nel 1982 lo trovano ad esaminare le armi trovate a due personaggi di ordine nuovo appena arrestati Carlo Di Giglio e Carlo Maria Maggi stila una memoria che vale la scarcerazione immediata di Di Giglio che molti anni dopo ometterà la sua partecipazione alla strage di Piazza Fontana è una perizia giudiziaria in cui sostiene che un caricatore per fucile e mitragliatore trovato durante la perquisizione a Maggi non è parte essenziale di arma da guerra ma solo un accessorio quanto basta far concedere la libertà provvisoria a Maggi che decenni dopo sarà condannato per la strage di Brescia aveva una concezione molto creativa del suo ruolo di perito tanto da far sparire negli anni 80 i campioni di esplosivi e munizioni su cui stava lavorando provenienti dall'arsenale sequestrato al comandante militare di Ordine Nuovo per Luigi Concutelli a smascherarlo dopo molti anni il giudice di Venezia Felice Casson impegnato nelle indagini sulla strage di Peteano lo accusa di aver coperto i suoi amici di Ordine Nuovo e nel 1987 gli sequestra alcune registrazioni appunti a voce su perizia in corso scoprendo sul lato B di una microcassetta una frase registrata con tono cavernoso qui parla Ludwig sarai la prossima vittima Ludwig è la sigla con cui vengono firmati tra il 77 e l'84 numerosi omicidi nell'Italia del nord est in Germania e nei Paesi Bassi la sua registrazione giura Morin era solo uno scherzo preparato per un collega peccato che la collega lo smentisca mai stata vittima di scherzi così idioti Morin era stato il perito sull'esplosivo della strage di Peteano lo aveva classificato come Sentex H di fabbricazione cecoslovacca esplosivo di sinistra usato dalle BR e dai terroristi palestinesi Casson ordina una nuova perizia svolta da altri esperti e scopre che il rocchetto con le tracce di Sentex ospita da lungo tempo una larva di lepidottero è la prova che non può essere il rocchetto originale Morin lo aveva sostituito e vi aveva inserito l'esplosivo rosso chi è davvero Morin? Casson lo chiede ripetutamente dall'87 al 91 al Sismi che non gli risponde tanto che il giudice decide di incriminare il capo del servizio Fulvio Martini e il suo braccio destro il generale Paolo Inzerilli intanto tutti i documenti che riguardano Morin spariscono nel nulla dagli archivi dell'aeronautica militare dal palazzo di giustizia di Verona perfino dall'inaccessibile laboratorio scientifico di Scotland Yard a Londra dove si era svolta la perizia di Morin sull'esplosivo di Peteano così Casson non si stupisce quando trova il nome di Morin negli elenchi di Gladio eppure il superconsulente continuerà per anni ad avere le chiavi riservatissime del centro indagini della procura di Venezia ad essere il consulente più ascoltato dai magistrati e non soltanto quelli veneziani mia conclusione sull'ipotesi fantasiosa c'è scritto sul sito di Barbacetto io dico che ci hanno preso per il naso e ad un certo punto hanno usato Pietro Pacciani per nascondere qualcosa di peggio due soggetti sapevano che il proiettile di Pacciani fosse falso uno l'amico degli ordinovisti veneti l'altro degli ordinovisti dell'apennino bolognese e dei sardi questo ripeto è un articolo che si trova sul sito di Gianni Barbacetto che io vi ho riportato e vi ho appena letto continuiamo con la mia narrazione un'altra teoria piuttosto controversa emersa di recente è che il mostro di Firenze possa essere l'americano Zodiac complice e qui veniamo alla pista che è venuto fuori negli ultimi giorni complice non solo negli ultimi giorni diciamo è andata a grande attenzione negli ultimi giorni complice alcune coincidenze tra le lettere spedite dal mostro agli inquirenti e i messaggi che il serial killer americano era solito lasciare dopo i suoi delitti con la pista dell'acqua una cosa certamente interessante è il fatto che il simbolo di Zodiac sia una croce celtica elemento sicuramente calzante con i profili di cui stiamo narrando ma se si analizzano le lettere lasciate dal mostro comparandole con quelle di Zodiac oltre che i cervellotici rimandi a corsi d'acqua allo stile calligrafico si nota una differenza sintattica e contenutistica abbastanza palese il mostro infatti anche nelle lettere anonime sembra usare un linguaggio scientifico scarno dritto al punto asciutto le lettere di Zodiac invece nonché le sue metodologie operative e di rivendicazione apparano loquacci oniriche fortemente allucinate letterarie a partire dallo stesso presunto movente quello sì di Zodiac attingente alla sfera religiosa e anche sessuale Zodiac sogna di legare a sé anche nell'oltretomba le vittime per poterne disporre come schiavi quindi da una parte abbiamo un killer di scienza dura di logos di capacità operativa come il mostro dall'altra abbiamo una specie di Lord Byron deviato e piuttosto narciso nel suo modo di comunicare la propria azione quasi messianica e romantica anche le azioni di Zodiac rispetto a quelle del mostro sono molto più grossolane e sembrano dettate da quella esigenza d'azione tipica dei serial killer di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra trattazione rischiando di compromettersi fortemente nelle azioni commesse con due vittime sopravvissute sulle sette accertate e l'utilizzo di armi diverse nonché l'assenza delle scissioni una diversa altezza tra i due killer oltre che la straordinaria ipotesi di avere a che fare se la teoria fosse vera con un killer transcontinentale che tralascia poi questa pista qui totalmente o quasi tutti gli spunti e gli stimoli offerti dalle indagini fatte in Italia dai compagni di merende agli interrogativi sulle indagini praticamente trapiantando un killer come si potrebbe fare con un vaso di gerani con un vaso di gerani oltre che date che sono di difficile coincidenza se andiamo a vedere quelli che sono i personaggi che sono accusati di essere entrambi entrambi i criminali poi viene da chiedersi se il serial killer fosse veramente Zodiac se troveremo davvero tutta questa sede questa serie di dubbi sulle indagini di difficoltà nel risalire al reale colpevole di zone d'ombra insomma una pista che risulta un po' difficile veniamo a delle lettere a mio avviso più interessanti invece coglienti il punto ovvero quelle dell'anonimo fiorentino anonimo fiorentino è lo pseudonimo con il quale si identifica l'autore dal primo novembre 91 di una serie di missive indirizzate agli inquirenti fiorentini magistrati giornalisti gli avvocati difessori di pacciani e anche diverse figure politiche del tempo elemento importantissimo quello dell'anonimo fiorentino fortemente critiche verso l'indirizzo delle indagini a tratti canzonatorie e fortemente allusive rispetto ad episodi caratterizzanti l'intera vicenda del mostro di Firenze un apporto forse sottovalutato talvolta malinterpretato ma ad avviso dello scrivente imprescindibile non solo per capire la vicenda ma anche per unire diversi punti dell'intero disegno la prima lettera targata 1 novembre 1991 è indirizzata a vigna il giorno esatto della notizia ufficiale dell'apertura alla caccia verso panciani lo scrivente rivolgendosi al magistrato scrive lei mi ha sempre definito un disadattato sociale fantasioso e sognatore introducendo una dinamica che rimanda non solo ad una presunta conoscenza personale ma quasi una dinamica rimproverativa consiglia di uscire da regole che voi considerate fisse indispensabili ma che non danno libertà d'azione immediata per quel che riguarda il corso delle indagini scrive come diceva il mio maresciallo e invita vigna a seguire il suo intuito senza andare dietro le altre persone con una concentrazione piuttosto critica proprio riguardo i metodi di indagine fin lì sperimentati ed una mal sopportazione che diventerà palese nelle lettere successive verso le pieghe che l'indagine ha preso nei confronti del Pacciani ritenuto un capro espiatorio la seconda lettera dell'anonimo fiorentino datata 13 novembre 1991 è dirompente diretta addirittura al ministro della giustizia martelli all'onorevole galloni e al procuratore generale della corte d'appello la lettera è diversa dalla precedente sia in quanto a stile sia in quanto ad impaginazione prevede delle note e il tono sembra molto più formale quasi ombroso perdendo il tono canzonatorio e confidenziale della precedente nella missiva si prova a fornire un quadro psicologico della figura del mostro aducendo un trauma vissuto dal giovane in passato inerente al tradimento di una sua amata con un altro uomo al quale avrebbe assistito personalmente e del quale avrebbe poi giurato se stesso di volersi vendicare ma l'elemento se sanzionale di questa missiva è che l'autore dei delitti sarebbe addirittura il magistrato Pierluigi Vigna che per il suo ruolo godrebbe delle coperture e delle anticipate informazioni che l'azione del mostro ci consegna Vigna che negli anni avrebbe conservato una sua abitudine di guardone e sulla scorta di quel trauma infantile avrebbe agito con intento vendicativo e punitivo fermandosi solo nel 1985 perché messo in condizione di non agire più della vittima maschile del delito degli scopetti le diversità della missiva con la precedente possono già porre più di qualche dubbio sulla sua provenienza fino a farci chiedere se sia della stessa persona che ha spedito la prima e spedirà le seguenti ma alcune considerazioni vanno svolte a perché se il mittente è lo stesso della prima lettera aspetta l'invio della seconda missiva per delineare chi secondo lui è il vero colpevole dopo aver inviato una prima lettera nella quale al netto dei rimproveri bonari esposti sembra invece voler aiutare proprio Vigna il destinatario della lettera nella ricerca del mostro b perché se il mostro Vigna non è allora un attimo perché se il mostro non è più in grado di agire un attimo che ho confuso qui ecco qui b perché se il mostro non è più in grado di agire dopo il 1985 questo non si dimostra anche nella sua attività ufficiale con una menomazione un problema di salute o una incidenza particolare cosa che non sembra vedendo poi la vita di Vigna c che credibilità può avere la pista che identifica come autore dei delitti un integerimo magistrato impegnato nella lotta alle versioni di destra che nel 1985 ha già 52 anni e nessuna attitudine fisica professionale e tecnica coincidente con la figura di freddo professionista della morte dimostrata dal mostro l'unica ipotesi se crediamo che questa lettera sia opera dello stesso anonimo fiorentino è che sia un messaggio provocatorio nel gergo e nelle modalità tipiche di certi ambienti per instradare le indagini o per suggerire alle indagini una persona facente parte dell'ambiente o vicina a livello che era conosciuta magari o che poteva essere conosciuta all'ambiente di indagini ma che il mostro sia vigna o che lo stesso anonimo fiorentino ritenga veramente vigna il mostro è un elemento di estrema improbabilità sul quale torneremo più avanti perché altrimenti se lui credeva veramente che vigna fosse il mostro di firenze lo avrebbe detto già dalla prima lettera in quelle successive avrebbe continuato a dirlo a puntarci a stracciarsi le veste invece questo non accade quindi la seconda lettera nella quale vigna viene accusato di essere il mostro è un messaggio è un messaggio dicendo A per dire B o C e D per parlare a vigna per certi versi la terza lettera dell'anonimo è datata 18 novembre 91 ed è rivolta al direttore della nazione all'avvocato Pietro Fioravanti ed è fondamentale la lettera si compone di quattro fogli scritti a macchina e oltre a rimarcare l'innocenza di Pietro Pacciani annuncia con largo anticipo il sicuro tentativo di incastrarlo con prove false l'anonimo ventila l'ipotesi di un invecchiamento artificiale della calibro 22 del mostro che poi verrà sotterrata nel giardino del Pacciani fa inoltre riferimento ad una seconda lettera che sarebbe stata ricevuta dal magistrato Silvio della Monica assieme a quella con il lembo di seno che non sarebbe stata pubblicata dall'ufficio stampa della questura e contenente un messaggio scritto con caratteri trasferibili sinistra e paradigmatica la frase del primo capitoletto della lettera dell'anonimo fiorentino quando parlando del Pacciani dice è accusato di detenzione di armi vecchie come il cucco di cui l'Italia è piena come pure gli italiani armi che non sono altro che residuati bellici tenuti in casa o in giardino per ricordo un triste ricordo ma pur sempre un ricordo un rimando ai residuati bellici che se pensiamo al possibile ruolo dei nasco appare come presente parlando della possibile falsificazione della prova con la pistola che tra l'altro precede il ritrovamento del proiettile nel giardino dei Pacciani questo dimostra di saperne molto sia delle tecniche di invecchiamento artificiale delle armi parlando dell'immersione per 4 ore in acido muriatico puro al 100% l'esposizione all'aria per due giorni per creare la ruggine l'invecchiamento posticcio ma anche di tecniche di sopravvivenza questo ne sa citiamo l'episodio dei ragazzi morti di sete nel deserto dicendo che il radiatore delle auto è pieno d'acqua che di notte nel deserto non evapora evocativo anche l'ambiente se pensiamo alle suggestioni algerine di cui prima paradigmatico l'appello ai difensori del Pacciani nella lettera che vengono invitati ad agire subito con un metal detector nei terreni del contadino di Mercatale in modo che a risultato negativo della presenza di armi alla data dello scrivente avrebbero una prova schiacciante della sua innocenza e dimostrerebbero che non ci sarebbe stata nessuna pistola interrata appare poi provocatori e foriera di una profonda conoscenza dei fatti in essere non solo la richiesta di esaminare dei fazzolettini di sangue forse presenti sulla scena del delito degli scopeti comparandoli al DNA di Pacciani ma anche l'insinuazione riguardo la seconda lettera inviatela della Monica è mai pubblicata sulla stampa forse perché è essenziale nel far comprendere a tutti l'identità del mostro lettera non pubblicata proprio perché l'autore dei delitti avrebbe una seria avrebbe un'identità inconfessabile poiché troppo importante collegandoci alla lettera precedente quindi e ritenendo e collegandoci a chi ritiene vigna il mostro e anche dopo chiederci perché per l'appunto continuare con questo alone di mistero se nella seconda lettera veramente si riteneva vigna il vero responsabile quando sarebbe bastato proseguire con le accuse in modo netto e chiaro anche questa lettera invece appare chiaro un linguaggio sicuramente asciutto ma molto addentro ai fatti anche i lavori di investigazione proprio di chi possiede informazioni riservate ed è uso a tattiche di indagini piuttosto avanzate e chissà di poter tenere per il colletto gli inquirenti provocandoli ed è di altissimo livello anche la previsione sulla possibile sul ritrovamento nel giardino del Pacciani di prove sospetti che non riguarderanno una pistola vabbè riguardano un bossolo ma comunque mica cazzi la quarta lettera dell'anonimo fiorentino è invece datata 8 febbraio 92 consta di due foglie ed è spedita al dottor Ruggero Perugini capo della SAM oltre ad accusare Perugini di fallimento nelle conduzioni delle indagini concluse con la farsa del Pacciani e ripetendo la richiesta di attuare la prova del DNA rispetto al materiale ematico sul fazzoletto ritrovato agli scopetti le cose estremamente interessanti in questa missiva sono tre un nuovo cambio nella impaginazione e nel tono molto simile a quello della prima missiva un tono sanguigno confidenziale e quasi rabbioso uno scioccante rimando a Gladio scrivendo fate come con Gladio archiviate coraggio di puntare il dito contro il colpevole anche se fosse un vostro diretto superiore la presenza di otto parole scritte in maiuscolo rispetto a tutte le altre presenti nel corpo di testa le parole sono nessuno Gladio mostro io mostro voi carriera giustizia nessuno Gladio mostro io mostro voi carriera giustizia estremamente suggestivo la quinta lettera rivolta a Renzo Rontini padre di una delle vittime femminili è un messaggio quasi accalorato e confidenziale che invita l'uomo a non accontentarsi della verità fornita dalla giustizia riguardo Pacciani dipingendo le azioni del mostro come opera di un luminare e non di un personaggio assimilabile al contadino dalla sesta alla decima lettera dell'anonimo cominciamo con la serie di 5 missive spedite il 5 maggio del 92 una nuovamente a Carlo Martelli una al direttore del quotidiano La Nazione mentre al procuratore della Repubblica Pierluigi Vigna la prima lettera di questa serie parla di modo di dire fra amici dopo avergli dato del figlio di puttana dimostrando di conoscere nuovamente eventuali modalità di depistaggio e dicendo che quella del proiettile è praticamente la costruzione artefatta di una prova arriva a minacciare direttamente poi ventilando perché altrimenti vi sputtano tutti per quello che veramente siete e tu lo sai non scherzo perché so troppe cose da Gladio al treno 904 vi sputtanerò perché siete tutti coinvolti per connivenze o amicizie tipo le tue le mie e di altri personaggio di sopra rispetto io non devo fare carriera capito testa di cazzo scrive scrive l'anonimo fiorentino cioè l'anonimo fiorentino a vigna scrive perché altrimenti vi sputtano tutti per quello che veramente siete e tu lo sai non scherzo perché so troppe cose da Gladio al treno 904 oltre ad emergere un inquietante quindi preciso e paradigmatico rimando ad episodi della strategia dell'attenzione a suo avviso conosciuti molto bene dai destinatari e dallo stesso vigna emerge una relazione tra l'autore delle missive e lo stesso vigna risalente forse all'età infantile forse negli studi viene anche deriso per una sua presunta omosessualità inserendo forse episodi intimistici con i quali vuole lanciare il messaggio di conoscere profondamente la vita dell'inquirente nella terza lettera di questa serie parla anche di calibro 22 ben celate forse in qualche deposito questo signore l'anonimo fiorentino dimostra di sapere molte cose sui delitti sulle indagini e sui cosiddetti trucchi contro pacciani non è azzardato pensare che l'anonimo possa essere parte o dello stesso gruppo del mostro in qualche modo oppure in seconda ipotesi un profondo conoscitore delle dinamiche d'indagini al tempo dei delitti e della poca credibilità della pista pacciani-mostro avendo magari un ruolo importante come accade a Mattei preferisce affidarsi all'anonimato e parlare per parafrasi per ifrasi con un linguaggio fortemente allusivo fortemente contraddittorio comune ai messaggi lanciati nell'ambiente e dall'ambiente dei servizi esiste l'alternativa che entrambe queste piste siano veritiere ovvero un personaggio molto vicino alla verità sui delitti del mostro che decida di intervenire pesantemente nella questione perché è in possesso di informazioni sulla vera matrice della vicenda e che vuole rendere pubbliche sbeffeggiando gli inquirenti dimostrando loro di sapere la verità l'anonimo fiorentino parla di una propria esperienza trentennale nel mondo delle armi nell'invecchiamento dei metalli dimostra qualche indicazione pure sulla sua identità e locazione tipo nel 1984 le boschette di Vicchio dicendo la sera stessa dopo l'omicidio la questura di Firenze chiese il mio intervento dato che ero sulla zona all'ora 7 fece immediata ricerca dei cani cinofili ma il magistrato in questione non lo ritiene opportuno ha una frase che Severiti era ci dà indicazioni estremamente circostanziate sulla identità del personaggio sulle unità cinofili che ci vengono confermate anche nella undicesima lettera quella rivolta a Carmelo Lavorino il 22 aprile del 92 una lettera di insulti nella quale riporta la frase se vieni qui a Borgo San Lorenzo che tra l'altro è la sede del comando dei carabinieri viene inoltre legittimo chiedersi perché se l'autore o gli autori di queste missive ripeto ritengono davvero credibile la pista del vigna mostro si attardino ad inviargli nuovamente missive di accorato e caloroso invito sull'indirizzo delle indagini è chiaro che la provocazione della seconda lettera non deve essere vista come un indirizzamento sulla figura del vigna quanto piuttosto all'ambiente forse ad un ambiente che il vigna può intuire ok prossimo a quello delle indagini al tempo dei delitti delle indagini al tempo dei delitti degli anni dei delitti allora parlando di poligoni pistole bossoli proiettili strane coincidenze sovviene un'altra storia interessante che riporto dal libro del buon Brogioni che si chiama il libro il mostro nero leggo nelle recenti indagini dei carabinieri da Ross è spuntata un'altra pistola al di sopra di ogni sospetto questa non ha effettivamente un legame con i delitti ma un legame con uno degli indagati quella trovata al figlio dell'ex regionario Giampiero Vigilanti quando è stato arrestato a Genova nel gennaio del 90 dal numero di matricola della pistola una calibro 9 è stato scoperto che di armi con quella targa ce n'erano due in circolazione prodotte in tempo di guerra dalla Beretta una è destinata all'esercito italiano l'altra all'esercito tedesco probabile che la prima dopo la guerra sia finita in qualche arsenale segreto come quella di via Sant'Agostino si continua poi con le dichiarazioni dello stesso figlio del vigilante nel novembre del 90 sono stato arrestato a Genova e portato in carcere a Marassi dove sono stato recluso 18 giorni esatti fui arrestato perché trovato la stazione Principe di Genova nei bagni appena sceso dal treno che era partito da Prato avevo addosso una Beretta calibro 9 ed ero stato incaricato di fare quel trasporto da persone che avevo conosciuto a Roma con l'intermediazione di un ex commilitone di quel momento non ricordo il nome ricordo che questo commilitone dopo molti anni dal congedo avvenuto nell'85 all'incirca nell'87-88 capitò a Prato apparentemente per altri motivi mi venne a trovare e dopo un po' mi chiese i successivi incontri se ero disponibile a fare un'operazione per conto di qualcuno e per conto dei cosiddetti servizi ricordo che la cosa andò avanti per un po' di tempo prima dell'arresto lo stesso commilitone venne a Prato e mi consegnò la pistola che dovevo portare a Genova qualche ora prima mi dette 2 milioni di lire che erano esattamente la metà del prezzo concordato per il trasporto che era di complessivi 4 milioni di lire nel november 90 Gianluca Vigilanti viene arrestato dai carabinieri del Ross perché è sorpreso a Genova con una pistola beretta modello 34 calibro 9 lo stesso modello dell'arsenale ritrovato a Pescia di cui abbiamo parlato prima il misterioso commilitone che avrebbe affidato l'operazione sotto copertura corrispondebbe ad un tale Massimiliano ma nessuno corrisponde alle informazioni fornite da Gianluca Vigilanti i due sarebbero stati commilitoni proprio in Friuli Venezia Giulia bene letto questo spezzone capitolo 4 una bomba abbiamo visto come la conoscenza nel maneggiare esplosivi e fabbricarli fosse una caratteristica distintiva nelle strutture di guerra non ortodossa e nei gruppi eversivi in azione nell'Italia della strategia della tensione questo ci introduce all'altro grande mistero qui trattato ovvero la serie di attentati esplosivi passati alla storia come le azioni di una bomber dal resto anche la presenza di micro ordigni conservati negli alimenti in musica 7 a cosa rimanda se non a quegli atti di sabotaggio dietro le linee che abbiamo visto utilizzare nei contesti bellici più disparati specialmente in epoca di guerra fredda sospetti rilanciati anche da due membri del gruppo investigativo sugli attentati perpetrati con ordigni del tipo pipe bomb a Mestre nel settembre 2006 e novembre 2018 all'autore Ugo Dinello i profili psicologici no questo non è uno qualunque dicono sa fare una cosa molto molto complicata come un micro innesco non un innesco normale no una cosa così piccola che è in grado di fare esplodere un ordigno talmente piccolo da essere nascosto nelle scatole delle sorprese di un ovetto kinder o di una musica 7 per fare questo non basta leggere i libri alla fine anche lei può diventare un bombarolo ma non di quegli aggegila no no ci provi però i primi tentativi farai esplodere il garage ai secondi andrà al pronto soccorso senza due dita e con tracce evidenti di esplosivo addosso al terzo ci rimetterà un occhio insomma verrà intercettato prima di costruire qualcosa ora si chieda perché questo non è stato intercettato secondo è uno solo e noti che non chiedo chi lo ha coperto e li copre ancora tutti perché sono un tipo quieto e un carattere tranquillo come non citare poi l'episodio capitato nel parco auto della questione di Pordenone con una replica di un membro del costituito gruppo Interforze ad un collega del laboratorio scientifico urlata a voce alta voi state coprendo un fascista il resto era chiaro così come nella vicenda del mostro a molti investigatori che i delitti avvenissero con logica non comune aggiungiamo a questo le dichiarazioni di Lucio Montagni ufficiale dell'artiglieria alpina ed esperto di esplosivi la fantasia e la bravura personale non bastano nemmeno la fortuna nel nostro campo la fortuna non esiste serve un'ottima preparazione ma soprattutto tanta tanta esperienza qualcuno del mestiere insomma che ha avuto modo di fare esperienza sul campo del resto non è stata trovata una sola impronta digitale riconducibile e la selezione dei materiali utilizzati è stata tanto accurata da rendere vano ogni accertamento merceologico nelle fasi di posizionamento nessun testimone nessuna telecamera ha mai registrato alcunché di utile tanto che lo stesso Montagni definirà la progettualità degli attentati e la confezione degli ordigni come il punto di arrivo della carriera di un artificiere professionista addestratto e collaudato sul campo non solo il bombarolo ha dimostrato di padroneggiare l'elettronica di avere un'alta competenza chimica producendo nitroglicerina stabile in modo artigianale e ricavando esplosivo dal fertilizzante oltre ad essere stato addestrato da qualcuno di veramente esperto una bomber ha potuto fare parecchia pratica con l'esplosivo in spazi dedicati ma perfettamente noti dove cioè potevano fare quello che facevano riparo ad occhi indiscreti e segnalazioni ai carabinieri non si è mai fatto male durante l'addestramento e se se un incidente vi è stato ha avuto a disposizione strutture e personale specializzati che lo hanno curato senza doverlo segnalare alla polizia non solo lui o il suo gruppo sono stati per forza addestrati a rieperire alcuni componenti necessari alle loro miscele esplosive e a loro inneschi da materiali offerti e disponibili nella vita di tutti i giorni il cui acquisto non attirasse l'attenzione penne fertilizzanti ingredienti da cucina portadolci per bambini altri materiali specialisti come basi nitroglicerini che sono state rese disponibili evidentemente da depositi specializzati che ufficialmente non compaiono da alcuna parte e che non richiedevano alcuna autorizzazione per il perievo degli esplosivi si sta parlando di tattiche di guerriglia adattandosi al materiale e all'ambiente che si trovano sul terreno d'azione e a depositi presenti sul territorio senza molti giri di parole similmente al mosto di Firenze inoltre anche una bomber sembra voler colpire in una data zona in un dato quadrilatero di territorio quasi considerare una propria zona d'appartenenza operativa studiando e disponendo di tecniche per arrivare in un determinato luogo nonostante l'alerta della popolazione delle forze dell'ordine proprio come il mostro come individui allenati a colpire e allontanarsi senza lasciare alcuna traccia in pieno sequio alle tattiche di guerriglia di infiltrazione e desfiltrazione ed è un qualcosa di straordinario nonché fattuale ed incredibile che nessun servizio di sicurezza interna nessun analista nessun uomo dell'enorme apparato di agenti segreti ed informatori all'opera in due delle zone più militarizzate d'Italia specializzati proprio nell'individuare reti o anche lupi solitari in grado di creare un clima di terrore sia stato in grado di individuare non diciamo uno o più colpevoli ma una pista finale un indizio una minuscola traccia su cui poter lavorare escludendo quella del lamierino simile anche alla capacità di amministrarsi dal punto di vista mediatico creando il mito di una bomba e ottenendo tutte le prime pagine di giornali e telegiornali nazionali con azioni di per sé minimali senza dover mai aumentare l'intensità delle proprie azioni nonché il loro modus frequenza o violenza un comportamento che esclude l'esistenza di competitività e quindi di eventuali emulatori siamo di fronte a quello che potremmo definire una forma di terrorismo a bassa intensità applicabile anche alla vicenda del mostro dubbi in merito alla provenienza del bombarolo del resto palesati ancora una volta dagli stessi investigatori sul caso nel 2024 il problema fa scoppiare qualcosa nel modo che vogliamo noi dove vogliamo noi e soprattutto quando vogliamo noi cioè né prima né mentre lo trasportiamo né dopo l'esplosivo da queste parti si può trovare a piacere se sia negli ambienti giusti e come se si può trovare ma è tutto un problema d'innesco ecco per questo ci vuole addestramento e qui se si è negli ambienti giusti si può trovare anche quello che ambienti e che so io basta guardare le cronache parlamentari dell'epoca di cosa parlano le cronache parlamentari dell'epoca di Gladio e dei depositi Nasco ok depositi di cui secondo la versione ufficiale 139 vennero recuperati mentre altri 12 secondo la relazione Andreotti o forse chissà quanti di più non era stato possibile bonificare perché finiti nelle fondazioni di edifici civili di chiese e di cimiteri i Nasco ufficialmente riconosciuti dal governo sono 139 ma il già citato deposito di Aurisina di numero 203 e quello di Villa Santina in Udine 677 hanno numeri progressivi che vanno ben oltre del resto come detto per i nuclei di difesa dello Stato l'interesse nel costituire questi gruppi e depositi è tutto tranne quello di una precisa rendicontazione dei partecipanti e dei materiali presenti dai carabinieri inoltre verificando con gli archivi dei servizi è venuto fuori che nel 72 dentro il Nasco di Aurisina c'era di più e diverso materiale rispetto a quello che ci doveva essere e ce n'era anche molto meno di un tipo preciso mancavano due accenditori a strappo su 20 accenditori che al di fuori dei servizi non si trovano e anche nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio dell'italicus bis troviamo in riferimento ad Enzo Maria Dantini un esempio calzante della facilità di reperimento ed azione di e su certi materiali fu proprio il Dantini a formulare la prima richiesta di esplosivo per lo Iannilli si legge a fornire istruzioni sulle varie tecniche di confezionamento di ordigni a spiegare le ragioni per le quali alcuni attentati erano falliti a dare suggerimenti sul modo di acquisire illegalmente l'esplosivo ad indicare le modalità secondo le quali era possibile preparare artigianalmente un ordigno utilizzando composti facilmente reperibili in commercio le similitudini con l'azione del mostro non riguardano solo la difficoltà nelle indagini e l'agire dei responsabili quasi fossero dei fantasmi per qualsiasi controllo in atto punto che analizzeremo in dettaglio più avanti ma anche nell'opera di sinistro messaggio che alcune azioni sembrano voler lanciare è il caso ad esempio dell'attentato al palazzo di giustizia di Pordenone nel quale il bombarolo arriva indisturbato a poter piazzare un ordigno nei bagni dell'edificio sempre rigidamente sorvegliato anche da videocamere i cui nastri tuttavia quel giorno che avrebbero dovuto testimoniare il passaggio dell'attentatore risultano fatalmente deteriorati nell'attentato del 17 novembre proprio il 17 novembre a Portogruaro in vero un'esplosione avviene addirittura dopo che nel supermercato vi era stato un controllo delle forze dell'ordine con ausilio di Metal Detector diversi attentati accadono in prossimità di chiesette e cimiteri così come in Friuli diversi depositi nasco sono interrati o custoditi nei pressi di chiesette e cimiteri un attentato avviene il 25 aprile 2003 sul greto del fiume piave ok protagonista secondo la tradizione trevigiana di una giornata passata sulle rive del fiume celebrando la festa della liberazione così come prima abbiamo visto le coincidenze con essere un ex partigiano il padre della Pettini una similitudine può anche essere estesa anche dai periodi di cooling off dal 74 all'80 per il mostro dal 98 al 2000 per una bomber tanto da far sospettare la causa della sopraggiunta guerra in Kosovo ma vi sono similitudini neanche operative nel salto di qualità nelle azioni così come rispetto alle pipe bomb dei primi attentati può essere notata l'evoluzione con i seguenti ordini trappolati di minori dimensioni riguardanti anche oggetto di uso comune e quotidiano come penne ed alimentari un salto di qualità viene anche nelle escessioni del mostro con le prime piuttosto grossolane e le seguenti estremamente precise gli accordi con quanto visto nelle pagine precedenti riguardano anche l'ambito politico dell'Italia del tempo e le indagini immediatamente successive agli attentati anche nel caso di una bomba vi è la presenza di uno strano depistaggio con vista a sinistra con il caso Agostini in sede del fantomatico gruppo greco 17 novembre ma c'è un dato ancora più sensazionale c'è un altro gruppo ellenico il gruppo 4 agosto che durante gli anni più caldi della strategia dell'attenzione aiuta latitanti e ricercati italiani appartenenti ad ordine nuovo in Grecia l'attentato del 96 a Udine di una bomber avviene il 4 agosto se vogliamo aggiungere un altro elemento a questa sfilza di coincidenze il fatto che nell'attentato di una bomber a Lignano il tubo viene inserito in dei fogli di giornali recanti la data del 2 agosto che è la data della strage alla stazione di Bologna analizzando nello specifico questa singolare vicenda lunedì 5 agosto 1996 l'agenzia ANSA di Roma riceve una telefonata di rivendicazione nella quale si dice che a mettere gli ordigni sarebbe stato il gruppo 17 novembre fantomatico gruppo di estrema sinistra greco gli investigatori si mettono così sulle tracce di Andrea Agostinis professore di Unitis Friulano che solo pochi giorni prima aveva scritto un approfondito articolo su questa organizzazione per il quotidiano del Friuli per le forze dell'ordine questa non è una coincidenza e si convincono che il professore debba avere un qualche ruolo nella vicenda dopo pochi giorni la pista viene archiviata ma il fatto interessante è che il sospetto ora prosciolto da ogni accusa fu poi sentito nel 96 come test dal giudice in relazione alla strage di Ustica a squacciare il velo sulle terribili ipotesi che si rincorrono ci pensa l'ingegnere Friulano Agostinis docente al Malignani ai tempi della strage di Ustica Agostinis era molto legato al capitano Ivo Nuttarelli oggi l'ingegnere riporta una confidenza del capitano delle frecce tricolori ovvero che quella sera incrociò oltre al 19 sui cieli anche uno o due caccia libici insieme a Nuttarelli c'era Mario Naldini così racconta Agostinis oltre al fatto che da Grosseto si alzò in volo anche un altro F-104 in assetto da combattimento e rientrò privo delle munizioni occorre dire che come tutti sappiamo sia Nuttarelli che Naldini morirono nella tragica esibizione delle frecce tricolori a Ramstein nel 1980 sempre a proposito di Ustica poche ore dopo l'inabissamento dell'aereo dal centro sisme di Firenze partì una telefonata che collocava il terrorista nero Marco affattigato sul Bologna Palermo poi uscirà un'informativa in cui si ipotizzava che ad abbattere il velivolo sarebbe stata una bomba di prima linea anche questo gruppo di sinistra destinata al giudice istruttore Fiorentino Vincenzo Tricomi che effettivamente doveva salire su quel volo per una sua indagine in Sicilia ma rinunciò poche ore prima nessuna di queste è vicino alla verità che si consoliderà faticosamente negli anni successivi Tricomi al giudice istruttore che richiederà le prove inerenti il delitto del 68 all'ufficio Corpi di Reato prove consistenti in 5 bossoli e 5 proietti del mostro miracolosamente trovate poi in un faldone del caso Mele assieme all'apirizia del 68 che permetteranno di aprire la pista Sard è curioso notare come anche l'altro ex sindacato storico del caso una bomber l'ingegnere Elvo Zornitta ex esperto missilistico alla Otto Melara di Genova e anche egli oggi riabilitato grazie alla vicenda roccambolesca del Lamierino abbia in qualche modo potuto avere a che fare con la Libia proprio attraverso la Otto Melara che ancora nell'84 e nell'85 stava provvedendo la completa revisione del sistema d'arma in dotazione alla fregata data a Savari gioiello della Marina Libica dotandolo di un sistema missilistico avanzato ed è tramite la soffiata di un ex collega secondo Zornitta che il suo nome entrerà nell'inchiesta e inoltre è stato processualmente accertato che i mafiosi autori delle stragi del 92 e del 93 avevano la preventiva consapevolezza che gli attentati sarebbero stati rivendicati dalla falange armata e che una delle telefonate di rivendicazione di questi attentati è stata effettuata a nome della falange armata gruppo 17 novembre da Udine dove in ambito Gladio inquadrato nella sezione K del Sismi operava il centro Ariete gemello del centro scorpione di Trapani quello diretto dal maresciallo Sismi Vincenzo Licausi morto assassinato in Somalia del 93 in una delle telefonate in una delle telefonate di rivendicazione degli attentati stragistici inoltre viene utilizzato lo stesso codice numerico di riconoscimento utilizzato sempre dalla falange armata per attribuirsi la strage in cui era stato ucciso il giudice Borsellino il 18 luglio 93 alcuni attentati di una bomba rinfriure nel Veneto hanno qualcosa in comune uno è stato messo in atto a Treviso nei pressi della Telcoma azienda produttrice del telecomando utilizzato per la strage di Via D'Amelio un altro a Pordenone come abbiamo visto dentro il palazzo di giustizia nei bagni dell'aula Falcone e Borsellino così come nei pressi di San Biagio di Callalta a sede l'azienda di Giorgio Panto imprenditore da sempre sensibile alle tematiche autonomiste ed indipendentiste che solo i pochi mesi prima aveva messo una taglia da 50.000 euro sulla testa di una bomba in quasi tutte le esplosioni poi a decine sono presenti riferimenti ambientali alla data del 17 novembre la parola vittoria il resto Santa Vittoria cade proprio al 17 novembre va detto che lo stesso Licausi ha avuto legami con il Friuli Venezia Giulia all'inizio degli anni 90 risulta che uomini sospettati di animare la falange armata abbiano frequentato varie località della regione tra cui un albergo di San Pietro al Natisone il cui proprietario è morto nel 92 in un singolare incidente stradale lo stesso Ezio Zernar accusato di essere l'autore della manomissione dell'ammierino che ha portato all'archiviazione delle indagini verso Zornita è stato uno dei periti della strage di Via D'Amelio con occhio al passato e alle suggestioni derivanti della strategia della tensione possiamo anche notare come la bomba protagonista dell'attentato all'istituto magistrale sloveno Slomsek di Trieste che abbiamo citato prima bomba fatta a tubo in acciaio tappato all'estremità con dadi a vite come nel caso di diversi ortini di una bomber trovati nei litorali fosse in odore di ordine nuovo di neofascismo un'altra bomba oltretutto piccolissima che da parte del sostituto procuratore Claudio Quassin fu oggetto di un tentativo di indagine coinvolgente la pista nera ma che come spesse volte è successo in passato gli fu negato dopo aver ricevuto oltretutto anche minacce di rapimento anche nel 1978 a nord-est abbiamo un altro attentato con radiolinea esplosiva un lavoro da terrorismo irlandese con innesco piccolissimo ma i resti dell'ordigno scompaiono nel giro di poco e le indagini non portano a nulla il 6 giugno 88 altro attentato con bomba a pila nella scuola elementare Edmondo dei amici Sappordenone vittima al piccolo Thomas Nardini con la magistratura che dopo sei mesi archiverà il caso come in tanti altri casi visti in precedenza su tutti quello di Petteanu anche dopo i primi attentati del mostro le prime piste scandagliate dagli investigatori furono quelle inerenti l'ecoterrorismo e l'anarchia un episodio di sinistra coincidenza tra anni 70 e il presente targato una bomber del resto ci viene dal 95 a Pordenone esplodono due tubi bomba nella stessa giornata e uno di essi determina il primo grave ferimento il tubo viene collocato in via fratelli bandiera nei pressi di un'abitazione vicino a un cassonetto della spazzatura viene raccolto intorno alle 16.30 da una pensionata e quando esplode causa alla donna gravissime lesioni agli arti superiori il secondo viene recuperato in via fratelli Rosselli da un'altra donna che non percepisce il pericolo e lo porta a casa l'indomani venuta a conoscenza del primo episodio sistema il tubo ancora intatto sulla bicicletta e lo consegna alle forze dell'ordine che fanno brillare l'ordigno situazione simile ad un'altra che troviamo nella sentenza ordinanza di rinvio giudizio talicus bis poche ore dopo l'attentato al treno infatti un estremista di destra di Arezzo Maurizio del Dottore aveva denunciato i possibili autori addirittura indicando un deposito di esplosivo che venne rinvenuto e fatto brillare in loco senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale quello relativo all'attentato di Vaiano nel libro di Brunoro e Pezzan che vi riporto in descrizione delle fonti parlando di indagini si cita la comparsa della pista giornita seguendo il modello già adottato anni prima dalla SAM la squadra antimostro che anni prima aveva indagato sui delitti di Firenze un parallelo inquietante se vediamo l'evoluzione delle due vicende giudiziarie e l'accertamento della verità fin qui ottenuto del resto nell'equip costituita per la caccia al pericoloso Bombarolo vediamo la presenza di un agente FBI formato anch'esso a quantico come Perugini chiamato ad indagare ed approfondire sul caso Zornitta come poi si fece per le figure del mostro di Firenze ed una intervista al PM di Padova Vittorio Boraccetti parla di pressioni affinché il caso si chiudesse a tutti i costi frasi che si aggiungono anche ad un'enigmatica dichiarazione di Zornitta che nel identificare la possibile matrice degli attentati ha quasi sempre indicato una mano molto più alta o appartenente ad un militare presente in zona oppure una regia nazionale tesa a lanciare un messaggio molto comparabile a quelli della strategia della tensione in un'area quella del nord-est al contempo stesso di vitale importanza ma attraversata da spinte centrifughe separatiste il sospetto di Zornitta deriva anche dal fatto che il materiale utilizzato per confezionare gli ordini era segnato in pollice non i centimetri a suggerire una possibile pista estera ma è possibilità inerente anche all'utilizzo di materiale appositamente conservato in depositi non registrati e di provenienza raccogliticcia forse anche estera stiamo parlando dei NASCO perché di depositi con armi a provenienza estera nei pressi dei luoghi oggetto della scia esplosiva ce ne sono come abbiamo visto a bizzeffe pista militare da resto rilanciata anche in una intervista del 2016 in un convegno sul tema a Jesolo a Francesco Macaluso collaboratore della Nuova Venezia che dichiarò in questi anni mi sono fatto l'idea di una bomber come di un matto lucido che poteva agire per vendette personali o per allertare una determinata circoscritta zona d'Italia io penso a una persona che non ha legami affettivi qui e che può avere a che fare con le forze militari non italiane a distanza sul territorio figura di matto lucido che è perfettamente equiparabile nella nebulosa che gioco forza l'identikit si porta dietro a quella che possiamo applicare allo stesso mostro di Firenze così come il contesto qui tracciato del suo metodo d'azione e provenienze del resto anche secondo il ministero dell'interno una bomber o il gruppo a lui riconducibile non sono assimilabili a dei semplici cittadini bensì ad un insieme di persone che hanno colpito con una disponibilità e padronanza di mezzi difficilmente ipotizzabile da comuni cittadini e a proposito di messaggi sinistri e chiese nel marzo 2006 dopo quasi un anno di silenzio dinamitardo da parte di una bomber gli investigatori decisero di tendere una trappola al misterioso terrorista dopo aver incrociato i dati sugli attentati gli investigatori si convincero che il prossimo colpo sarebbe stato all'interno di un tabernacolo per colpire probabilmente il parroco nel momento in cui preleva le ostie poco dopo anche qui rimandi al progetto caos che coinvolgevano anche i clericali e via discorrendo poche ore dopo il vertice investigativo che decise di piazzare le telecamere dentro la chiesa di Motta qualcuno ruba le chiavi del tabernacolo un episodio che gli investigatori collegarono immediatamente a una fuga di notizie interna al pool che di fatto vanificò tutto il lavoro preparatorio che aveva portato ad escogitare la trappola anche qui possibili fughe di notizie come per i 5 punti nel delitto del 1985 anche il magistrato che conduceva le indagini si chiese se la circostanza fosse frutto di casualità oppure fosse da leggere come un avvertimento a non avvicinarsi troppo alla misteriosa figura di una bomber la stessa vicenda del lamierino inerente Zornita del resto lascia diversi dubbi sulla stampa si fa largo l'idea di un nuovo intervento dei servizi segreti poiché a molti sembra impossibile che il lamierino precedentemente analizzato da ben tre laboratori gruppo investigativo RIS e polizia scientifica di Roma che hanno confermato l'esattezza dell'ipotesi investigativa si rilevi poi alterato a distanza di così tanto tempo l'assenza di una competizione tra bombaroli e di un vero e proprio salto di qualità nel numero delle vittime o nelle tipologie di attentati se da un lato ci può far escludere l'assenza di emoli sul territorio oltretutto verificando l'improbabilità che diversi gruppi d'azione possano godere dello stesso tipo di competenze coincidenze fornite nelle indagini abilità poi invece come nel caso del mostro farci propendere verso la presenza di un gruppo di persone a vario livello coinvolte nella vicenda invece che di uno solo autore al centro di indagini criminologiche profiling per seller killer e turbolette storie familiari alle spalle ok al posto di ragionare su profiling storie di famiglia così è probabile ripeto è possibile che siano azioni di due gruppi ok con persone coinvolte a vario livello conclusioni veniamo alle conclusioni abbiamo visto come due vicende lontane nel tempo possono avere delle comunanze non indifferenti è il momento ora di tracciare le fila e provare ad unire i puntini innanzitutto è possibile dire in ultima istanza che risulta improbabile che una tale mole è sequela di azioni preordinate precauzioni capacità tecniche operative logistiche geografiche e perciò diversi mediatiche comunicative possono essere in capo ad una sola persona per entrambi i casi il sospetto che si tratti di due gruppi se non altro con uno o più artefici principali e altri secondari è forte così come il sospetto che questo tipo di azioni non possono essere il frutto di un gruppetto di contadini affinazzati o di timidi padri di famiglia di provincia è anche possibile affrontare una volta per tutte la questione dei mandanti esoterici per quel che riguarda il mostro la pista dell'esoterismo viene infatti da chiedersi una cosa se la setta dei mandanti era così potente da godere di tutta una serie di coincidenze o coperture che fin qui non l'hanno fatta emergere alla luce del sole perché avrebbe dovuto compromettersi con omicidi di questo stampo e in contesti da baccanale di campagna come quello che possiamo scorgere nelle vicende inerenti le feste a casa di indovino o nelle passioni notturne di vanni pacciani e lotti perché un personaggio di spicco entrato in certe indagini un rampollo come ad esempio Narducci avrebbe dovuto mettere la propria vita nelle mani di questo squallore quando non solo una persona con le sue disponibilità ma un gruppo se di esso era rappresentante di tale livello massonico esoterico avrebbe potuto godere di occasioni di materiale di ben altro livello per compiere il proprio disegno magari anche in modo meno plateale e singolare dato che di sette ne possono esistere tante ma la gira del mostro nel nostro paese resta un unico pressoché totale con ciò non intendo sconfessare totalmente la pista perugina o la presenza di una persona con competenze mediche nel gruppo del mostro che come abbiamo visto si sposa con l'organizzazione dei nuclei di guerra non ortodossa sicuramente esiste un caso nerducci così come esiste un caso zodiac ed esiste il caso mostro ma tendo ad escludere che la soluzione per i delitti delle coppiette vada seguita dietro sette massoniche rituali arcaicizzanti e panni intrisi di candeggina anche il discusso ritrovamento della pietra a forma di piramide tronca sulla scena del duplice delitto cambibaldi dell'ottobre 81 sembra qualcosa sul quale si possano costruire collegamenti solamente in modo forzato viene da chiedersi infatti perché se la pietra a valore rituale venga ritrovata solo in un delitto perché essa non possa essere una normale pietra presente nella zona o se dal valore veramente dimostrabilmente singolare puro possibile depistaggio vista che tutta la vicenda inerente alle presunte sette sataniche o gli stimoli esoterici fin qui sembra aver portato poco lontano sia Firenze che Perugia senza poi parlare di chi crede addirittura vigna come autore dei delitti citando la prossimità dei luoghi dei delitti alle abitazioni del magistrato o ai luoghi da lui frequentati nei giorni nelle ore delle uccisioni come un indizio della sua colpevolezza cioè al posto di credere che un integerimo uomo di giustizia ai tempi impegnato con alcuni tra i più scottanti casi di cronaca giudiziaria alcuni inerenti proprio alle versioni di destra si diletti a cacciare copiete di innamorati vestendosi da rambo la domenica sera ma non è forse più probabile che gli autori reali dei diritti desiderino lanciare un messaggio di diffida ai minacci inerenti proprio agli scottanti e pericolosi provvedimenti giudiziari di cui il magistrato si stava occupando non è invece probabile che i membri del gruppo mostro volessero far capire di conoscere gli spostamenti del vigna di monitorarlo minacciosamente facendogli sentire il fiato sul collo cioè ci sono tutti questi indizi omicidi nella zona indagini di vigna in merito all'estremio di destra l'anonimo fiorentino che gli scrive e gli parla proprio di quello tutto può essere ricondotto a dei segnali dati allo stesso vigna minacciosi e c'è gente che crede che vigna sia il mostro in Firenze del resto gli stessi messaggi profondamente provocatori lanciati a vigna dall'anonimo fiorentino nelle sue lettere fanno il paio con la lettera inviata alla della Monica contenente un lembo di seno inviata alla persona alla della Monica che più di tutte forse nel momento più delicato della vicenda mostro ovvero dopo il duplice omicidio di Baccaiano di Montespertoli ebbe l'ardire non solo di bleffare abilmente riguardo le dichiarazioni che il Mainardi avrebbe concesso in punto di morte ma che cercò fino in fondo di risalire alla vera nascita e ai veri motivi per cui comparve il collegamento al duplice delito di signa del 1968 e alla comparsa della infruttuosa pista sarda altro elemento suggestivo riguarda la data di inizio dei delitti del mostro ovvero il 74 hanno caratterizzato dal referendum popolare sul divorzio e preceduto da una campagna elettorale aspre radicalizzata che contrappose in modo netto gli schieramenti presenti sullo scacchiere politico italiano nella primavera di quell'anno iniziò una serie di attiantati terroristici via via sempre più gravi rivendicati da ordine nero dopodiché sempre in Toscana il 21 aprile si ebbe l'attentato di Vaiano il primo attacco alla linea ferroviaria Firenze-Bologna al quale seguì la gravissima e paradigmatica strage di piazza della loggia a Pianda e Rascino e inoltre come abbiamo visto la sparatoria in tenda nella quale perse la vita Giancarlo Esposti un anno che segna la rottura dei precedenti legami tra mondo dell'estrema destra e di interesse politico aspramente orientato all'anticomunismo militante e paramilitare con questo non stiamo certamente dicendo che i delitti del mostro di Firenze nascano dalla contrarietà referendum sul divorzio in Italia però se crediamo vera la matrice nera è prettamente inerente alla strategia della tensione dell'humus da cui il mostro nasce può sicuramente aver fornito una piccolissima percentuale di motivazione ideologica pensiamo per esempio alla parola repubblica scritta con una bisola con la quale viene confezionata la lettera spedita dalla della Monica diverso il discorso sui suggerimenti forniti da un grande protagonista del foro fiorentino quale il compianto avvocato Filastò legale di Mario Vanni egli stesso nelle sue confessioni presenti sul web sotto forma di interviste ma anche nel suo libro Storia delle merende infami dimostra di apprezzare l'ipotesi della pista dei servizi delle forze dell'ordine ritengo tuttavia poco plausibile che l'autore dei delitti sia a tutti gli effetti un poliziotto un carabiniere tesi che Filastò propala non tanto servendosi della testimonianza del calonacci sull'auto della polizia vista a Cervaia quanto sulla possibilità che Spalletti abbia potuto vedere un'auto delle forze dell'ordine addirittura con la famosa bolla accesa se ascoltate Filastò non penso che l'azione del mostro volta invece a precise tattiche di infiltrazione e assoluto bisogno di agire senza farsi scoprire potesse manifestarsi con un comune o addirittura luminoso rumoroso avvicinamento con una gazzella della polizia così come la teoria che vuole colpevole un poliziotto per i fori di proiettile presenti sul tacuino di Claudio Stefanacci che lui avrebbe mostrato ha detto carabiniere o poliziotto che gli avrebbe sparato non convince in fondo in primis raramente un documento viene mostrato ai poliziotti tenendolo nel portafoglio ma viene estratto e dato in secondo luogo se questa fosse stata una prova che il mostro fosse stato un poliziotto lo stesso assassino avrebbe avuto cura di eliminare sicuramente la traccia del portafoglio forato magari portandolo via penso che i timori mostrati da spalletti e perso diversi dall'ambiente dei guardoni fossero relativi proprio al peso alle influenze alla copertura e alla provenienza dei veri autori dei delitti sicuramente non semplici poliziotti o carabinieri personaggi che non agivano a sirene spiegate o celando la propria azione dietro controlli rutinari indivisa da vigili ma con modalità da specialista dell'assalto in ossequio alle più moderne efficaci e sfuggenti tattiche di infiltrazione e desfiltrazione in azioni di terrorismo a bassa intensità non lasciando una traccia utile alle indagini e nemmeno testimoni vivi dietro di sé in azioni svolte al buio in zone rurali con armi da fuoco di bassa capacità offensiva e valide per il tiro a segno elemento anche questo determinante grande freddezza capacità e forse anche ci dà un indirizzo sulla provenienza non comune degli autori analizzando poi i processi di certo una domanda a me è suscita curiosità vi devo dire la verità perché si scelse quale consulente della difesa proprio Morin visto le sue passate vicissitudini dubbi e non qualcuno magari di meno controverso Morin oltretutto accolto da un gelido noi la conosciamo per fama dal PM nella deposizione del 14 luglio 94 su di un reperto poi estremamente delicato quale il proiettile rinvenuto nel giardino del Pacciani centrale per la sua condanna e oggi protagonista di enormi dubbi giudiziari dopo che un anonimo l'anonimo fiorentino per l'appunto aveva preconizzato un possibile inquinamento delle prove con il sotterramento di un'arma artificialmente invecchiata nel giardino del contadino di Mercatale sicuramente la vicenda dei marcati intercettamenti dei movimenti del mostro e soprattutto la sua capacità di prevenire i movimenti e le tattiche di forza dell'ordine se crediamo che il mostro non sia mai stato fermato ed è altamente plausibile è difficile pensare a qualcuno che scientemente in tempo reale fornisca l'autore dei delitti o il gruppo d'azione coordinate misure presenze di pattuglie piani di vigilanza piani che possono anche cambiare da un momento all'altro subire modifiche da un momento all'altro meno improbabile pensare invece e qui veniamo alla questione del ma come fa a essere sempre informato meno improbabile pensare invece alla possibilità che il gruppo del mostro specialmente in tempo di mostrofobia oltre che di un certo livello di monitoraggio del gruppo inquirente forse per un passato in comune o prossimità ambientali fosse dotato di strumenti di intercettazioni anche da questo punto di vista la sentenza ordinanza di rinvio a giudizio italicus bis ci viene in soccorso oltre che con le testimonianze sui campi paramilitari dove ci si allenava l'intercettazione ma ci viene in soccorso con una testimonianza in particolare circa il Geroldi faccio presente che il nostro colloquio dimostrava almeno secondo me di essere se non altro in contatto con certi ambienti dico questo perché usava termini tecnici molto precisi e forniva numerosi particolari sulle vicende degli anni 60 in particolare sul piano solo parlava di agenti provocatori nel senso che affermava che personale dei servizi aveva partecipato a manifestazioni per farle degenerare parlava di carceri appositamente attrezzati per ospitare quelli che lui chiamava i nucleandi faceva riferimento a caserme dei carabinieri anche se attrezzate inoltre mi parlò di azalea prima ancora che questa denominazione di un'articolazione della gladio divenisse di dominio pubblico tornando al Geroldi ricordo inoltre che disponeva di un apparecchio per intercettare i telefonini e ne ha fatto uso anche in mia presenza per dimostrarmi che era in grado di controllare anche il mio telefono del resto se stiamo parlando di un gruppo con attitudini paramilitari con a disposizione materiale strumenti di derivazione bellica e con addestramento e accesso a mezzi propri dei gruppi d'azione impegnati in delicatissime operazioni sul territorio non deve stupire la possibilità di disporre di materiale anche tecnicamente sofisticato che può essere stato trafugato o utilizzato per scopi distorti alla pari di quanto accadeva per le armi o gli esplosivi oltretutto di strane figure dotate di grosse antenne ricce trasmittenti montate su auto si accenna anche in altre opere sul caso del mostro quindi è probabile che si tratti di capacità di intercettazione le stesse dinamiche militari e prettamente operative che riscontriamo sia nel caso del mostro che nel caso di una bomber come abbiamo ampiamente visto ci portano ad escludere le azioni di individui avventati o di o inesperti di tattiche quali le imboscate gli assalti il confezionamento di ordigni operazioni nelle quali oltretutto nel corso degli anni non si è riuscito a ricavare un testimone una traccia pesantemente utile nelle indagini o pesanti errori operativi o altri inciampi da parte dei responsabili unica eccezione può essere il caso di Baccaiano ma si può tranquillamente far notare come anche in esso la vittima maschile non sia comunque sopravvissuta se non in stato di profondo coma e purtroppo per pochissimo tempo al tempo stesso a chi con questa azione mette in dubbio le capacità operative e di tiro del gruppo di fuoco per il possibile rischio di fuga della coppia e per gli inconvenienti occorsi nel delitto che avrebbero spinto il mostro a spengere il quadro motore dell'auto e a buttare la chiave nei campi si può al contrario ribattere contrapponendo a ciò la freddezza che in una situazione è divenuta complessa l'omicida dimostra nel portare a termine il suo disegno con colpi precisi tra cui uno che entra dietro l'orecchio della vittima e soprattutto un colpo di grazia alla tempia del ragazzo uscendo anche qui di scena senza particolari blocchi in una strada comunque non così nascosta e secondaria resa ancora più pericolosa e frequentata da una festa di paese quella di Cerbaia che nei pressi si stava consumando è stato molto abile in una situazione si divenuta complessa ma a renderla purtroppo estremamente semplice e a fuggire tattiche freddezze operazioni che non possono essere compiute dal primo bracciante presente in zona o da un folle con ricco corollario che abbiamo visto all'inizio di serial killer di last murder che infatti sono sempre stati presi in queste situazioni anche per tracce lasciate nei luoghi dei delitti di carattere profondamente compromissorio e qui quasi sempre assenti nei delitti del mostro e stiamo parlando in entrambe le vicende sia quella del mostro che quella di una bomber ma specialmente in quella del mostro di autori che nelle loro azioni hanno messo in campo tutti i punti dello schema ispeg visto all'inizio della nostra trattazione informazioni in loco tramite vedette guardoni appostamenti conoscenza del territorio sabotaggio propaganda e sfiltrazione e tattiche di guerriglia la mia idea per entrambe le vicende è che il contesto socio-politico dal quale la violenza di entrambe è scaturita specialmente vedendo le incredibili vicissitudini giudiziarie dei due casi non possa essere scisso da quell'unicum nazionale rappresentato dalla particolare violenza del periodo della strategia dell'attenzione e dalle numerose spinte centrifughe da esso causato la mia idea è che la vicenda del mostro di Firenze sia in sostanza il parto di una cellula deviata probabilmente forse compromessa in qualche modo con la stagione stragistica e dei nuclei di guerra non ortodossa in azione nell'Italia del tempo nella quale deviazioni personali e la volontà di lanciare un messaggio interno a questo mondo nonché di ribadire la propria forza e l'assoluta mancanza di volontà nel finire accantonati o incastrati di profondo cambiamento della strategia dell'attenzione nel 1964 hanno partorito un nucleo di assassini che con gli omicidi delle coppiette volevano da un lato ribadire la propria scomoda e pesante presenza al mondo che li aveva precedentemente utilizzati dall'altra farlo attraverso le pulsioni più recondite e deviate della personalità di uno dei più membri facenti parte del gruppo di fuoco volendo lanciare un aperto messaggio di attacco di sfida e befa all'ambiente inquirente del tempo che proprio in Toscana si stava occupando dei processi alle stragi sui treni all'estremismo di destra abbiamo del resto visto come attorno al 74 con l'attentato catartico di piazza della loggia già di per sé definibile come un messaggio della manovranza neofascista verso chi pensa di poterla accantonare con facilità nasca un tentativo di allontanamento dei precedenti schemi e un pugno duro verso strutture come ordine nuovo pugno duro che sancisce la rottura che il mondo istituzionale vuole compiere verso quel tipo di panorama strumentale negli anni precedenti ma dal 1973 al 74 ritenuto scomodo e più pruriginoso se parliamo del resto dei profondi rivolgimenti inerenti ai servizi e alla strategia dell'attenzione stessa sul finire degli anni 80 lo stesso ex presidente della Repubblica Cossiga ne dà testimonianza in un'intervista recente assieme alla non peregrina ipotesi dell'ingrossamento della bolla P2 quasi a mo come un po fu per gladi un po quasi a mo di enorme convergenza depistante concentrando tutti gli onori delle cronache e dei misteri su di un variegato conciliavolo che era tra presentatori tv uomini dello spettacolo generale d'armata invece che su più specifiche specializzate e celate strutture tecnicamente dispiegate sul territorio durante gli anni della guerra fredda per ciò che riguarda invece il caso di una bomber penso che anch'esso nasca da anni nei quali strutture come gladio non solo venivano alla luce ma in qualche modo nel dibattito pubblico iniziavano ad essere allontanate come scomodi usberghi di un'epoca da superare se possibile rinnegare non mi stupirei se anche qui qualcuno che in passato fece parte di questo tipo di nuclei avesse utilizzato gli ordini e il terrorismo a bassa intensità da loro causato per lanciare un messaggio a chi gli dovere sicuramente più che alle stesse vittime che dal resto sono colte nel mucchio come in qualsiasi odiosa forma di guerriglia civile la dinamica del messaggio interno temo sia stata sottovalutata anche nell'analisi delle poche attinenze che abbiamo visto verso i responsabili dalle lettere anonime alla modalità e tempi d'azione preferendo concentrarsi su affascinanti teorie inerenti a una nuova diamantina forma di serial killer o suggestione di stampo esoterico quando la realtà ha avvolta se essere già sufficientemente incredibile di suo l'ipotesi quindi è che sia l'evento mostro sia l'evento uno bomber possano essere inseriti in un contesto che li vede quindi due fenomeni di latenza della strategia della tensione per quel che riguarda il mostro inerente alla fase del 74-78 con il rigetto della fase nera per quel che riguarda una bomber la fine della guerra fredda all'emersione degli archivi su Gladio assieme ad una delicata fase politica italiana che proprio nel nord-est vedeva messa in crisi l'autorità centrale e le vecchie forme della prima repubblica in un territorio nel quale iniziavano ad affiorire i depositi di armamenti clandestini accomunati due eventi probabilmente dalla provenienza in entrambi i gruppi d'azione della militanza in nuclei di guerra non ortodossa da gran parte dei componenti se ci concentriamo sulla vicenda mostro pare probabile che gli omicidi delle coppie e tutto il contesto ruotano attorno agli avvenimenti non sia stato l'opera di un solo individuo ma viene da dire di un gruppo a livelli variabili composto sicuramente dalla figura principale che si occupava di uccidere le coppiette che era il maggior portatore di deviazione un individuo probabilmente con un trascorso di militanza politica e un passato a contatto con gruppi di estremismo organizzato probabilmente atipico con un carattere anche marginale rispetto al corso degli eventi caratterizzanti del gruppo che per acquisire una certa centralità è sospinto da un lato della secondarietà ricoperta nel gruppo d'azione dall'altra dagli stimoli politici interni l'accantonamento suo e della struttura nella quale militava all'interno delle logiche del tempo sia esterni il declino della società italiana rispetto ai propri desiderata la volontà di superare certe forme di lotta politica ha visto nascere una volontà di azione quasi da giustiziere sicuramente si trattava di un individuo dotato di grande forza fisica piuttosto alto non vecchissimo nato sul finire degli anni 30 che in passato poteva già aver mostrato un carattere sospetto a tratti schivo caratterizzato da attenzioni o deviazioni non particolari non per forza sociale o con grandi turbe presenti ma singolare nemmeno avente un ruolo di leadership all'interno del gruppo di cui parliamo quindi era l'assassino era sicuramente importante dal punto di vista giudiziario perché era l'autore materiale dei delitti ma all'interno del gruppo d'azione poteva anche non essere il principale protagonista attorno a lui a vario titolo di coinvolgimento possono aver agito figure anche più importanti nella scala gerarchica e sociale che ad una certa quasi hanno utilizzato e incoraggiato queste azioni servendosene e affinandole come un'arma per lanciare messaggi ed avvertimenti a chi di dovere e al contempo depistare coprire e continuare l'azione spalleggiandola con azioni logistiche quali la spedizione delle lettere il perfezionamento delle firme delittuarie come la progressiva specializzazione nelle escissioni nonché la progressiva pulizia delle azioni sceniche anche in relazione ai protocolli d'indagine ed è probabile che all'interno del gruppo vi fossero figure di una certa cultura o derivazione anglosassano straniera con competenze militari figure militari o paramilitari presenti nel gruppo d'azione che avevano un certo grado di informazione rispetto alle azioni dell'omicida che in qualche modo non ha anche potuto aiutarlo con la logistica dalle intercettazioni alle successive lettere e rivendicazioni dalle auto utilizzate alle armi dal monitoraggio delle mosse delle forze dell'ordine ad altri compiti operativi e logistici persone anche in contatto politico con la cellula estremistica di provenienza e con gli addentellati dei nuclei territoriali di guerra non ortodossa pure con un doppio ruolo da un lato agenti pronti all'azione politica con un lavoro e dall'altro complici dell'assassino di cui si servivano un gruppo che poteva essere composto da paramilitari o ex militari non giocoforza tutti italiani o militari con trascorsi nuclei operativi nazionali ed esteri il gruppo dei compagni di merende può aver rappresentato l'aspetto più marginale e superficiale della vicenda composto da contadini e guardoni pasteggianti il territorio con amicizie poco raccomandabili e trascorsi discutibili possono essere entrati a conoscenza se ne è servito in qualità di vedette per segnalare specialmente in tempo di mostrofobia la presenza di coppiette abitudinarie e di luoghi dove colpire non per forza in un rapporto di complicità estrema e sicuramente non da pari grado magari anche solo da torbide chiacchiere conoscenze e discussioni nella taverna o in altro luogo e rigolosa logica di compartimentazione minaccia e successiva ricompensa economica rapporto però risultato fatale ai contadini in sede giudiziaria finiti in un gioco più grande di loro da qui i torbidi messaggi lanciati sia dal Pacciani con i suoi disegni e con i suoi strani personaggi da qui le sceneggiate del Vanni in aula da qui le incompressioni tra Lotti e gli altri forse dovute da motivi economici sui compensi e la mole di danaro trovata a Pacciani assieme alla redistribuzione delle responsabilità mai accertate e mai pienamente soddisfacenti in un quadro dove un trio di questo tipo non può essere andato oltre per la complessità delle vicende delle azioni ad un ruolo di marginalità operativa del resto proprio per la delicatezza dei temi di cui parliamo dell'assoluta necessità che queste strutture di guerra non ortodossa rimanessero coperte complice anche i loro possibili ruoli nei più discussi episodi stragistici d'Italia non sarebbe stato possibile far venire allo scoperto la verità del mostro perché oltre al rischio di scoperchiare l'intera struttura in tempo di guerra fredda e di presentare i nuclei all'opinione pubblica come un coacervo di deviati e pericolosi assassini con tutte le conseguenze politiche del caso le persone del gruppo d'azione avrebbero avuto modo di raccontare per vendicarsi segreti inconfessabili o di lasciarli in qualche luolo minacce che anche nei delitti traspaiono del resto rispetto ad una conoscenza coerente e superiore di ciò che in Italia veniva al tempo un patto di segretezza che alla fine costringeva tutti ed è qui che si deve trovare il motivo segreto della storia del mostro emerso solo nelle figure sbalestrate e poco credibili dei compagni di merende per quanto riguarda la vicenda di una bomber qui se possibile la figura o le figure in azione se anche qui trattasi di gruppo sembrano se possibile ancora più sopraffine e sfuggenti figure di grande capacità militare per ciò che concerne la produzione di ordigni dislocati in un territorio da sempre tradizionalmente più caldo ovvero quello del nord est italiano e delle grandi basi al confine orientale una personalità fredda determinata che sicuramente aveva fatto proprio le tattiche e strategie di guerriglia inerenti agli esplosivi e il terrorismo a bassa intensità in cui si sono mescolate pulsioni personali o forti insoddisfazioni e conoscenze relative al proprio mestiere con le strutture di guerra non ortodossa che la scoperta di Gladio poteva mettere a rischio in una stagione nella quale i vecchi arnesi dagli episodi stragistici dei misteri di mafia e della criminalità organizzata rischiavano in Italia e in Europa di alzare un inquietante velo sui protagonisti operativi di quelle stagioni un caso quello del mostro quindi nato dalla degenerazione di una cellula radicale di cui abbiamo parlato in precedenza molto simile alle sue azioni e punti d'ombra alla banda del brabante vallone in Belgio in uno schema replicabile in modo anche più sottile della vicenda di una bomber nella quale le posizioni di estremismo personale e militanza problematiche individuali anche sfoccianti nel patologico o conoscenze militari e paramilitari volontà di riaffermazione del proprio ruolo e o di vendetta e segnale verso alte sfere o settori che si ritengono la base di una strumentalizzazione della propria azione si mescolano in un cocktail mortale ragazzi ho finito grazie per essere arrivati fin qui fatemi sapere la vostra un caro saluto